Quarta giornata dedicata al rapporto tra giornalismo e cinema, anzi giornalismo e audiovisivo perché spero si possa parlare non solo di quello che vediamo sul grande schermo. Abbiamo fatto un'analisi fin dal primo giorno sulla maniera in cui la carta stampata interagisce con l'online, il passaggio che in questi anni sta rivoluzionando innanzitutto la professione di coloro che lavorano nel campo del giornalismo e se dalla prima giornata c'è stato sempre un elemento costante, cioè la specializzazione nell'ambito del giornalismo diventa sempre più importante e tra l'altro è quella che forse può garantire anche un maggiore accesso alla professione e di conseguenza due giornate sono state dedicate proprio a due temi particolari come la critica musicale e oggi la critica cinematografica o anche l'anticritica cinematografica. Questa mattina è tutta dedicata alla dottoressa De Tassis, vi prego di fare un applauso per darle benvenuto. La carriera di Piera De Tassis è molto difficile da sintetizzare quindi io darò solo alcuni punti giusto per darvi delle direttive. Come giornalista ha debuttato con l'Arena, l'Unità e il Manifesto, è autrice di molti saggi e volumi, io cito esclusivamente l'America con Gianni Amedio che è uscito per Einaudi e poi il libero carodiario, è stata membra della commissione di selezione della settimana della critica di Venezia, ha curato una retrospettiva intitolata 20 Italian Leading Ladies che è stata presentata in tutto il mondo, dirige Chuck di cui è stato inviato speciale dal gennaio del 97 e cura la rubrica di critica cinematografica per il settimanale Panorama e ha fatto parte della giuria ufficiale del Festival di Venezia nel 2001 e dal 2008 al 2011 un'altra esperienza fondamentale di cui oggi spero che parleremo è stata anche direttore artistico del Festival Internazionale del Film di Roma. Inoltre tra le sue numerose attività è anche blogger per l'Huffington Post che è un'altra esperienza editoriale molto interessante arrivata dagli Stati Uniti ma che stiamo leggendo anche in Italia. come nelle altre giornate avremo una prima parte in cui la dottoressa De Tassis racconterà la sua professione ma chiaramente declinandola in modo che sia un esempio un po' per tutti e nella seconda parte daremo più spazio anche all'interazione con domande e riflessioni però io partirei proprio domandandolo a dottoressa De Tassis in che modo poi il come dirigere un giornale oggi che cosa significa oggi essere direttore di un giornale come Chuck e sì naturalmente chiedo scusa. No non mi sono dimenticato volevo farlo dopo però questa giornata è stata organizzata fin dalle premesse nella selezione anche dei relatori con Apulia Film Commission. Apulia Film Commission sapete benissimo cos'è da domani parte forse la rassegna sicuramente la rassegna più importante per la Puglia ma non solo di cinema che è il Bifest. Abbiamo cercato tra l'altro di intersecare questo nostro festival con il Bifest in maniera che questa giornata potesse essere anche una piccola riflessione su alcuni argomenti che verranno trattati anche domani perché naturalmente parlare di cinema significa anche parlare di critica cinematografica e quindi la selezione anche dei relatori di stamattina, dei docenti di stamattina è stata realizzata grazie all'apporto del presidente di Apulia Film Commission che è Antonella Gaeta. Volevo coinvolgerla però in effetti volevo coinvolgerla dopo ma in effetti è meglio che ci siano i saluti iniziali quindi grazie Antonella. Hai cercato di tacitarmi neanche il microfono mi funzionava ci ha fatto finta che non stavo a questo tavolo. Va bene sono Antonella Gaeta per un presidente di Apulia Film Commission non so se veramente tutti sappiate cos'è una Film Commission però non sarò qua a Tedia. In realtà è una fondazione che è stata creata per sostenere, attrarre cinema in Puglia come diciamo core business possiamo dire cioè cercare di far venire e avete visto e vedete ogni giorno, leggete ogni giorno di produzioni che vengono a girare in Puglia. Poi c'è un altro aspetto che è quello che ci compete dal nostro statuto che è quello della divulgazione dei saperi cinematografici e forse questo diciamo il cotè del mio lavoro per cui sono qui a parlarvi ma proprio brevemente perché nel mio percorso c'è anche quello della scrittura per il cinema. Prima ho cominciato appunto attraverso la critica cinematografica poi scrivendo anche sceneggiature e quindi voglio dire la scrittura abbinata che sta intorno al cinema e fa parte della mia vita. E questa giornata è particolare, scusate se faccio un po' di autobiografismo spinto, è particolare perché a mio fianco, Piera d'età, si sa in fondo a questa sala c'è Gianni Canova che per me sono due figure importantissime perché quando ho cominciato a scrivere di cinema, la mia prima recensione l'ho scritta con la penna su un foglio, questo per dirvi che proprio non sto rivelando tutto sommato la mia età ma in realtà non l'ho scritta neanche a macchina la prima recensione perché così non è tantissimo tempo fa ma la mia prima recensione l'ho scritta così e quando penso a scrivere di cinema, proprio scrivere è il verbo che dobbiamo tenere come nostro faro, scrivere perché io oltre a scrivere le prime recensioni scrivevo anche delle lettere cioè per cercare di entrare nei giornali. La prima lettera l'ho scritta a Ciac perché Ciac come dicevamo con Piera prima, produceva, soprattutto io parlo dei miei anni 90, produceva proprio il desiderio di collezionare, cioè collezioni e collezioni di Ciac e appena appena, ho fatto due anni, sono diventata pubblicista, allora ho pensato di possedere la scienza e la possibilità di scrivere su Ciac il mio giornale, cioè la mia rivista di riferimento e Piera dei Tassi se non mi ha risposto, devo dire, e di questo, cioè ogni volta che... ho approfittato per dire questo, ogni volta che ci incontriamo glielo rinfaccio, cioè proprio sta pagando il fio da quei... e poi ho scritto un'altra lettera, l'ho scritta a Gianni Canova e questo che non ha risposto ma ha pubblicato la lettera sul numero successivo di Duel perché era il direttore di Duel, quindi vergogna insomma proprio pubblica e in realtà ho cominciato a collaborare con Duel, ma in realtà scrivere, per questo vi dicevo, quando uno ama il cinema nel mio caso lo traduce in scrittura e in questo, in questa, come dire, impostazione certamente l'impostazione che ci viene confermata da esattamente gli anni dalla nascita del cinema il cinema ha prodotto, dice Dottorini, discorsi e questa è una cosa bellissima e approfitto di questo nostro incontro per dirvi che tra i primi discorsi sul cinema prodotti da un teorico del cinema c'è i discorsi sul cinema di Ricciotto Canudo, Ricciotto Canudo che non mi stanco mai ogni volta che ho un incontro di ricordarlo, un teorico pugliese, barese, in realtà nato a Gioia del Colle che agli inizi del Novecento praticamente scrive, dal 1915-1918 scrive e parla per la prima volta di cinema come settima arte, cioè immaginate a Parigi, lui era detto Le Barisienne, un nostro teorico che per la prima volta si accorge della capacità o della possibilità artistica del cinema come addirittura compendio di tutte e sette le arti ma non è questa la ragione del nostro incontro, lo è anche e il ruolo del critico, il ruolo di chi scrive di cinema è molto ampio ovviamente è ancora più ampio, cioè i confini si scontorna, credo Pia tu sia d'accordo sempre di più, perché quando ho cominciato a scrivere io c'erano solo riviste, riviste cartacee e successivamente poi la rivista ha preso tante forme, ma la divulgazione cinematografica ha preso tante forme, ma anche la stessa fruizione del cinema ha preso tante forme dallo schermo, lo schermo che si è miniaturizzato sempre di più, la possibilità che voi avete di accedere a film lontanissimi, a generi diversi e allora tutto questo, io mi tacito Piera, perché come dire, in questo mare magnum ovviamente ci sono i nostri fari, i miei fari personali che come vedete si sono messi anche in due posizioni antipodali che ci aiutano adesso a orientarci. Grazie. Grazie Antonella Gaeta, anche per recuperare, non ci sarebbero stati naturalmente sia Piera De Tassis che Gianni Canova, che più tardi anche Zappori, direttore di My Movies, se non ci fosse stato innanzitutto il consiglio, anche il contatto che ci ha dato il Presidente di Apulia Film Commission. Vuoi dire una cosa su Bifesto, giusto per annunciarlo? Sì, Bifesto. Ecco, sì, no, mi dai un'altra occasione per dire giusto un'altra cosa, che far critica o fare divulgazione, per quanto ci riguarda, è anche organizzare una serie di rassegne di cui forse avete avuto notizie. Ne cito una per tutte che registi fuori dagli schermi, che è curata dal critico Luigi Abiusi e che abbiamo ospitato al Cineporto con diversi ospiti da Andrea Pallauro, a Ian Gonzales, a Mirko Locatelli, perché questa è un'altra maniera anche laboratoriale di fare critico, perlomeno di divulgare, di attrarre pubblico a un cinema che parli in linguaggi diversi da quelli consueti o diciamo che più facilmente possiamo vedere in distribuzione nelle sale. Il Bifesto comincia domani dal 5 al 12 aprile, le proiezioni, come sapete, sono al Galleria, tutte le sale del Multicinema Galleria sono al Petruzzelli, ci saranno incontri. Vi ricordo che ci saranno le lezioni matutine di cinema al Petruzzelli, a partire dal 6 aprile con Sorrentino, poi ci saranno le lezioni di Michael Radford, perché ricordiamo Troisi, ci saranno le lezioni di Castellitto, Comencini, dimenticherò sicuramente qualcuno, Bacaloff, Gregoretti e in chiusura una lezione di Andrea Camilleri che dialogherà con PIF, parleranno di volontesi, parlerà di film tratti da Shash e quindi di mafia, come sapete PIF ha diretto un film dedicato all'argomento. Poi ci saranno proiezioni di panorama internazionale, che sono film molto importanti internazionali da vedere nel pomeriggio, 4 e mezza, 18 e 30 e poi ci saranno le anteprime internazionali al Petruzzelli, ci saranno film di Aronofsky, insomma potrei continuare, però insomma sono film anche questi che vi consiglio caldamente, lì dove troviate posto. Grazie. Grazie. E quindi riprendo la domanda che stavo facendo prima per la dottoressa De Tassis, cioè che cosa significa oggi dirigere una rivista, parlando per esempio di Ciac, con una storia decennale, con 40.000 copie che vengono vendute e con insomma anche una responsabilità verso una testata importantissima e storica, come è cambiato anche il mestiere di giornalista e di critico cinematografico, in modo da abbracciare delle tematiche semplici. Farei rispondere Canova a tutte queste domande difficilissime. Allora innanzitutto volevo dire una cosa, buongiorno, io sono molto più, vi dirò delle cose però sono molto più felice se mi vengono fatte delle domande, perché è un mestiere talmente complesso, penso che ognuno di voi abbia delle curiosità. La prima cosa che vorrei dire è che giustamente Gianni Canova ha pubblicato la lettera, ha fatto un gesto giornalistico importante, io non rispondo alle lettere, quasi mai, rispondo a delle idee. Questo lo dico perché è molto importante quando scrivete a un giornale, a un sito, a chiunque, per proporvi come collaboratori, adesso non so cosa abbia scritto Antonella, ma sicuramente sarà stato meraviglioso, però, ed è colpa mia, però a me è successo di prendere collaboratori che durano da allora su un incontro, una volta uno dei più fondamentali in un ascensore del Biennale di Venezia, che mi ha aggredito proprio eccetera, però non è tanto l'aggressione che generalmente avrei respinto, quanto avevo un'idea precisa. Allora, non rispondo alle lettere che mi dicono, non rispondo ai curriculum perché me ne arrivano 40 al giorno, non significano nulla, secondo me, e non vogliono dire niente. Non rispondo a chi mi dice vorrei una rubrica, perché la rubrica ce l'abbiamo verso una certa età, ma forse anche no. Non rispondo a chi mi dice vorrei fare il critico cinematografico, perché non significa anche questo nulla. Rispondo molto volentieri a chi ha un'idea precisa. Mi dice, per esempio, vorrei fare, adesso dico una sciocchezza, vorrei fare, non so, un servizio su, ecco, recentemente ne ho ricevuto una, non so, non credo si possa fare, perché poi abbiamo saputo, c'è questa idea, voglio entrare nelle cronologie del computer di una serie di personaggi, che significa scoprire quali sono i siti che hanno consultato i personaggi nelle ultime ore, eccetera. Naturalmente poi ci siamo, meno male io essendo più grande e matura, come dire, esgamata del collaboratore che me l'ha proposta, ho capito subito che avremmo trovato una decina di siti porn e non avremmo potuto pubblicarlo, ma l'idea in sé di sapere se un regista che quali sono i siti di cinema, per esempio, che consulta di più è interessante, è un'idea, non è una cosa generica. Questo lo dico per scusarmi, non so cosa avevi scritto, ma è anche un'indicazione. Secondo me quando si scrive bisogna avere un'idea, tanto è vero che lui che è furbo ha pubblicato la lettera, cioè ha fatto un gesto giornalistico, non ha risposto alla lettera, no? Dimmi di sì dal fondo. Ha fatto lui un gesto giornalistico ed è lui quello che, se in qualche modo ha approfittato giustamente di un rapporto con un lettore. Beh, detto questo, che non risponde credo in nulla a quello che mi hai chiesto, però è un'indicazione che do a chi... Allora, ho visto che in un momento di pazzia, non so quando ho dato questo titolo, La grande bellezza del giornalismo. Io ci credo, probabilmente l'ho fatto molto tempo fa, altrimenti oggi questo titolo, La grande bellezza del giornalismo, contiene due errori fondamentali. Primo è l'uso della grande bellezza che non si può più fare, perché l'hanno scritto tutti. Quindi la prima cosa che vi dico è non scrivete La grande bellezza, La grande bruttezza, La grande saggezza, La grande... Perché diventerà un titolo impossibile? Spero di averlo fatto quando ancora non era in voga. Secondo, La grande bellezza del giornalismo esprime un mio sentimento personale. Oggi, devo dire, viviamo un momento molto difficile, molto molto difficile, soprattutto se parliamo di carta stampata. Questo, per sintesi, vi dico, la carta stampata, la carta, l'edicola, praticamente non esistono più. Si fa molta, molta fatica a vendere in edicola, quindi a vendere carta. D'altro canto, l'evoluzione verso i siti, verso il digitale, ancora non ha il riscontro economico in grado di consentire un vero business. Quindi siamo, purtroppo, la mia in particolare generazione, è una generazione che sta vivendo una trasformazione violentissima, rapidissima e davvero importante e davvero anche non saprei darvi una ricetta per il futuro. L'unica cosa che vi posso dire intanto è che su questo tavolo, già che ci sono, perché ho gli appunti. Io vi parlo da, purtroppo, da ere geologiche distantissime. Voi dovete pensare che qua, davanti a me, ci facevo caso prima, ieri mentre ci pensavo, io ho tre cose che sono oggi tutto quello che serve per fare questo mestiere. Cioè, in queste tre cose io ho tutto. È un iPad a cui io ho aggiunto questa splendida tastiera Bluetooth, peraltro comparata a Bari quattro anni fa, quando ancora non l'avevo trovata a Milano. Con questa, quindi, io riesco anche a scrivere, spedire, fare i pezzi, tutto quanto. Naturalmente navigare, naturalmente stare su Twitter. Con questo è la mia agenda. Dentro ho tutti i numeri di telefono, che mi sembrerà che non siano importanti, ma sono la parte essenziale di questo lavoro. Naturalmente il digitale, che si può anche non usare, perché ormai in genere i colleghi registrano addirittura direttamente dall'iPad. E ci pensavo perché, perché quando appunto io ho iniziato, quando lei parlava di carta, penna, mi immagino valga anche per Gianni, quando io ho iniziato tutto questo, cioè io vorrei non dirle certe cose, ma sono costretta a dirle. La prima volta che sono arrivata a Ciac, nel 1928, io ho visto arrivare il primo fax. Non so se vi rendete conto. Non sappiamo più nemmeno che fine hanno fatto i fax. Dove sono? Ci sarà una fossa comune dei fax, perché non li usa più nessuno. Però questo per dire che ho cominciato addirittura quando si dettava al telefono, cercando disperatamente una cabina telefonica. Nel quotidiano si dettava, si dettava con Parigi, Cursal, Ravenna, eccetera, alcuni nomi di città per fare la scansione, usciva inevitabilmente qualsiasi cosa. E ho visto il primo fax e poi rapidamente la macchina da scrivere, la fotocomposizione, abbiamo tagliato, tagliavamo direttamente sui lucidi. Oggi tutto quello, tutto questo è come un passato remotissimo, eppure vi sto parlando del 94, addirittura alla fine degli anni 90 ancora sopravvivevano. Quindi c'è stata una rivoluzione rapidissima che in qualche modo ha anche molto democratizzato questo lavoro. Nel democratizzarlo sicuramente ha portato un sacco di vantaggi e ha portato anche una orizzontalità, ne parlavamo prima assieme con Gianni Canova, che a mio avviso ha distogli completamente dalla selezione, dall'informazione, e dall'approfondimento e dalla profondità. Quindi di questo ne parleremo. Tu mi chiedevi che cos'è un direttore di un mensile di cinema, no? Cos'è un direttore? Un direttore in realtà è molto, ecco, questo bisogna dirlo, è molto diverso da un semplice giornalista. Cioè, un direttore è un'altra cosa. Io ho cominciato come giornalista, come redattore, come cronista, come inviato. Se mi avessero permesso, forse avrei continuato volentieri su quel percorso, che mi piaceva molto. Però improvvisamente mi hanno chiesto di fare il direttore. Il direttore è un misto, perché da una parte devi essere un manager oggi. Questo perché lo dico? Perché, a parte alcuni casi fortunatissimi, i giornali all'inizio, quando io ho cominciato a fare il direttore, nel 1997, diciamo che il 70% era il venduto edicola, cioè il 70% del guadagno, insomma, era il venduto edicola, cioè quello che si vendeva in edicola, il restante 30% era la pubblicità. Rapidissimamente questo rapporto si è invertito. Oggi direi che il 30% è essere molto generosi. No, c'è stato un momento di passaggio in cui siamo arrivati a un 50% di venduto edicola, un 20% di pubblicità e addirittura un 30% dato da tutti le vendite collaterali. Noi sapete che noi vendiamo, per esempio, i DVD eccetera, allegati a Ciac, come altri giornali vendono le scarpe, le ciabatte e gli accappatoi. Noi, per fortuna, essendo un giornale specializzato, abbiamo potuto fare una politica di questo tipo. E quello era quello che faceva il conto economico, faceva ritornare il conto economico. Oggi direi che se è abbassato molto la resa delle vendite collaterali, un giornale vive di pubblicità, vive sostanzialmente di pubblicità. Quindi il lavoro di un direttore, per togliervi ogni illusione, quindi per non lasciarvi nel mondo dei sogni, ma mi sarebbe piaciuto, però è sempre un bellissimo mestiere, questo ve lo dico. Il lavoro di un direttore è sostanzialmente una sorta di grande pattinaggio artistico su ghiaccio, attraverso la ricerca delle pagine pubblicitarie, la ricerca degli sponsor per gli eventi. Sono molto, vado un po' in ordine spasso, però sono molto importanti per un giornale come Chuck, che ha un brand, come diciamo noi, forte, cioè il logo Chuck è molto conosciuto, quindi è molto forte, è molto vendibile. Sono molto importanti gli eventi, perché sugli eventi che costruisci con il nome Chuck, a Venezia, nelle varie manifestazioni, eccetera, puoi trovare sponsor e gli sponsor possono portare ai soldi. Quindi il direttore diciamo che deve navigare fra e pattinare, è una specie di pattinaggio, io l'ho fatta dal piccolo pattinaggio, quindi mi viene sempre questa idea, perché ogni tanto non riesci a frenare e c'entri proprio lo steccato in fondo. Devi appunto cercare le risorse economiche, devi cercare la pubblicità, devi combattere per trasformare la pubblicità in notizia, perché naturalmente quelli che mettono pubblicità vorrebbero tanto che ci fossero delle pagine semplicemente di redazionali con il loro marchio scritto, eccetera, invece devi lavorare assieme a loro per capire in che modo possono intervenire sul giornale, ma dandoti notizie o creando tu notizie. Devi contemporaneamente cercare di avere, di essere giornalista, quindi di avere esclusive, di avere interviste che altri non hanno, di avere materiali, tagli, il taglio è importante in un giornale, quindi un taglio di notizie, un'inchiesta che altri non sono in grado, a cui non sono in grado di arrivare e quindi, e devi essere anche un politico, perché purtroppo in Italia poi, politico l'ho inteso in senso lato e largo naturalmente, purtroppo in Italia poi si naviga sempre fra cinecittà sovvenzionate, come dire manifestazioni altrettanto, personaggi a cui fa riferimento, non fa riferimento, chi fa questo mestiere deve in qualche modo riuscire a tenere la barra dritta al centro, costruire l'autorevolezza del giornale, perché solo l'autorevolezza del giornale permette di resistere a tutte le spinte, che inutile mi nasconda non ci sono. Non so se fin qua è stato chiaro il... ecco. Poi quello che dico io, e qua me lo scrivo, me lo so scritta grande, chi fa un mensile, siamo ancora sulla carta e non sull'evoluzione, chi fa un mensile di cinema di questo tipo deve essere soprattutto un veggente, soprattutto, soprattutto una specie di mago. Perché? Perché io non posso vendere l'attualità, chiaramente. Da un lato non posso vendere l'attualità, soprattutto sempre meno posso vendere l'attualità e le notizie. Perché basta che apriate qualsiasi... basta andare su Google, non occorre aprire niente, basta andare su Google, come sapete è più grande. E la notizia è già data. Perfino a me è capitato di dare, che pure non faccio esclusivamente questo, di dare per prima una notizia su Twitter. Quindi diciamo il... che era poi la morte. Vabbè ragazzi c'è un attimo, questo è anche un direttore, la stanchezza alla fine. Poi ve lo dico, di Mariangela Melato, scusate. Ma dico non posso dare l'attualità e non posso rincorrere quella, sempre meno. I mensili sempre più dovrebbero depurarsi, secondo me, dal dato della notizia. Noi lo stiamo facendo. D'altro canto è molto difficile stare in edicola, andando solo ed esclusivamente sullo storytelling o sul racconto o sull'approfondimento. Quindi è molto difficile questo passaggio. Quando dico deve essere un interveggente, è che quello che conta per un direttore, almeno che è contato nella mia esperienza, e adesso probabilmente finirà a breve, ma è durata abbastanza lungo, quindi vuol dire che in qualche modo è andata bene, è avere, capire in anticipo che cosa succederà. Allora io molto spesso vedo le persone... io mi arrabbio molto quando vedo i miei giornalisti, non scandalizzatevi, che leggono la mattina, perdono un'ora a leggere il quotidiano, che va benissimo, però leggetevelo prima di venire al giornale o anche la sera, che non fa niente, perché per un mensile, per costruire un mensile, non serve nulla. Serve due mesi prima sapere qual è l'andamento del mercato, quali sono i film che stanno per uscire, quali sono gli autori al lavoro, capire quale sarà il fenomeno che funzionerà, sia culturale, artistico che economico, perché è chiaro di cassetta, di box office, è chiaro che non viviamo solo di d'arte. I grandi successi di Chuck sono nati grazie a questa, l'intuizione di Leonardo Di Caprio, quando ancora, quindi con i film di Bas Lurman, Giulietta più Romeo come diavolo, Giulietta in Romeo. Prima copertina, è stata la mia prima copertina, preso subito, lì vogliono farmi veramente principessa, al Mondadori, poi dopo, naturalmente l'abbiamo perso subito con una copertina bianconero su Clint Eastwood, però la mia prima copertina fu quella lì, quasi per caso. Evidentemente Leonardo Di Caprio è stata un'intuizione, perché Leonardo Di Caprio ancora non era Leonardo Di Caprio, però per il pubblico giovane che andava cercando, che già lo conosceva, perché questo è fondamentale, è stata una rivelazione. E quindi il giornale ha venduto. La volta dopo ho convinto che ero la regina del giornalismo internazionale, ho messo un bel Clint Eastwood in bianco e nero e diciamo che l'effetto non è stato lo stesso. Però poi il fenomeno Di Caprio ci ha pagato in una serie di esauriti, perché poi è venuto i Titanic. La stessa cosa l'abbiamo avuto con la prima copertina sul Signore degli Anelli. Lì, con il Signore degli Anelli, devo dire, di aver fatto i maggiori proprio risultati, tra questo, i libri su Signore degli Anelli, la trilogia eccetera, presa in tempo. Quindi si tratta di intuire che cosa sta succedendo. Spesso di capire che cosa sta cambiando. Per esempio oggi è molto difficile, le star non funzionano più, i supereroi hanno funzionato a lungo, sto parlando di copertina, ma adesso non se ne può più, perché sono tutti uguali pure questi. Non è che possiamo mettere Spider-Man, sai che cambia al massimo la tutina. Quindi ci sono però, per esempio, dei, per esempio bisogna capire che sono le serie televisive spesso a creare nuove star, nuovi volti che poi si affacciano al cinema. Per esempio, l'esempio sicuramente più forte i beni di Camberbatch, che uno che tradizionalmente si occupa solo di cinema non sapeva neppure chi fosse, ma noi ricevevamo centinaia di lettere perché vedevano Sherlock, naturalmente. Quindi questo è, quando io dico veggente, è che è un sistema mentale che è completamente diverso da quello del fare un settimanale o del fare un quotidiano. E quindi è complesso. Oggi è molto, molto difficile capire che cos'è un mensile. Un mensile che costa in edicola 4,50 euro, quindi so benissimo che è molto costoso. Un mensile che quando ha, come questo numero, che è sottile perché la pubblicità si è abbassata, 116 pagine, dà l'impressione di non valere, qua se escono le cose che dico qua vengo licenziate immediatamente, comunque dà l'impressione di non valere 4,50 euro. Quindi deve essere un giornale che ha almeno una foliazione di 148 pagine per stare in mano e dare l'idea. E un mensile è un giornale che dovrebbe durare nella testa un mese, cioè dovrebbe, se tu lo finisci in una giornata non va bene perché hai speso 4,50 euro per una cosa che si chiama mensile e che ti è già finito. Quindi deve avere un equilibrio di approfondimento, di storie a cui ti affezioni e di attualità, quindi film che dovreste andare a vedere eccetera, abbastanza importante. Quello che non può più fare un mensile oggi è dirvi cosa vai a vedere oggi. Quello ve lo dico su Twitter, sulla Fit of Post, su Facebook, che non a caso sta andando furtissimo da noi, ve lo diciamo con questo. Cioè il problema che affrontiamo noi oggi è come, quale coraggio dobbiamo avere per saltare per esempio la parte dei fin del mese, la parte della recensione ai fin del mese, perché tanto comunque siamo fuori tempo. E quindi è tutto, insomma, è una cosa molto complessa e naturalmente la cosa più importante è anche la rivoluzione verso il sito. Questo è il prossimo passo che sarà il passo dei prossimi mesi. Io non ho parlato poi di fonti, di cose perché pensavo che era meglio spezzare su quello che ho detto Fido. Possiamo comunque andare avanti. Allora io stavo scrivendo comunque delle domande, alcune le avevo già preparate. La prima che volevo fare è quella che riguarda proprio l'elemento del marketing, cioè oggi per riuscire a scrivere di cinema vuol dire che bisogna avere innanzitutto contezza di quello che è la distribuzione di un film e il lavoro di marketing. Quindi quanto conta e quanto influenza poi il lavoro di chi parla e scrive di cinema? Cioè, tu dici, allora, io mi ero scritto una cosa, non so se rispondo in questo modo. Quando io dicevo qua dentro c'è tutto, no? I numeri di telefono, ecco. In giornalismo noi parliamo sempre di fonti. Ci sono fonti anche nel giornalismo di entertainment, naturalmente. E sicuramente sono tutto quello che sapete, tutti i siti che volete consultare da IMDB in su e in giù, sono scaricarsi tutti le, almeno tre giornali fondamentali. Intanzitutto sapere l'inglese. Allora, io soprattutto in qualsiasi discorso che faccio oggi vi dico, senza almeno l'inglese, e non dico l'inglese scolastico, ma l'inglese, questo mestiere non si fa. Cioè, su questo non... cioè, addirittura è la prima cosa di cui mi preoccupo quando c'è un nuovo collaboratore, perché senza non è possibile. Anche perché noi lavoriamo molto poi con l'ES, lavoriamo molto con interviste ormai phoner, le cosiddette phoner, cioè al telefono, o via Skype, perché i costi si riducono, gli investimenti pure, quindi vengono usati questi strumenti. Però ti dicevo, le fonti sono sicuramente alcuni, tutto quello che volete voi, ma alcuni imprescindibili giornali, che non sono, come spesso mi dicono, semplicemente i Cahiers du Cinema, che peraltro secondo me sono piuttosto vecchi, o le riviste specializzate, eccetera, ma sono proprio le riviste dell'industria. Secondo me oggi la migliore è di Hollywood Reporter, e di Hollywood Reporter sia seguendola sul sito, che su Twitter, che sul cartaceo è oggi il prodotto che vi dà la miglior idea della situazione internazionale, sia di mercato, che di tendenze, che di fenomeni, eccetera. Dovete avere dentro questo come variety, bisogna imparare a leggere assolutamente questi strumenti, così come bisogna imparare tutti i lunedì a leggere il box office. Io devo dire che non sono la massima esperta di lettura di Cinetel, però per me il giornale, così come la scelta di DVD, come la scelta di stare sul mercato, non è possibile senza quella sacra rappresentazione, quella messa del lunedì, che è l'arrivo del Cinetel, cioè la lettura dei dati del box office, del weekend. Perché quello nel bene o nel male, e penso che Antonella sarà ancora d'accordo, nel bene o nel male vi dice in quale mercato operiamo, a chi stiamo parlando, quali film funzionano o non funzionano, non per parlare solo di quelli che funzionano, ma anche per capire dove andare a fare delle ricerche, a incidere, a scoprire dei nuovi talenti. Però quello è fondamentale, queste sono le fonti di giornalismo. Poi sicuramente avere i numeri di telefono, questo giornalista lo sa, di tutti gli attori, di tutti i registi, di tutti gli sceneggiatori, di tutti quelli che fanno questo mestiere, che si possono raggiungere direttamente, senza mediazioni e che sono importanti, sono importanti perché ci dobbiamo parlare, perché questo lavoro è fatto di passione per questo lavoro e per chi fa questo lavoro. Infine ci sono, ma io li metterei al primo posto, quelli che forse tu individui come marketing, che per noi sono importanti, diciamo il marketing vale soprattutto per gli investimenti pubblicitari, il marketing di qualsiasi divisione. Gli uffici stampa, senza una relazione corretta, anche litigiosa, anche di contrasto con gli uffici stampa degli attori, dei film, soprattutto dei film, questo lavoro non si può fare. Potete litigare a sangue, cosa che si fa, ma non potete far finta che non esistano gli uffici stampa, perché il più delle volte senza l'ufficio stampa, soprattutto agli inizi di carriera, naturalmente, soprattutto anche a metà carriera è chiaro che a questa età qua posso chiamare direttamente un regista, ma guardate anche per me spesso è più furbo e più conveniente chiamare l'ufficio stampa, perché se io chiamo Sorrentino direttamente e salto l'ufficio stampa succede un patatrack che mi impedisce di uscire, quindi bisogna essere in grado, quindi avrete capito, un politico, un diplomatico, bisogna usare tutte le armi, che sono però le armi del giornalista tradizionale, anche quando fai un giornalismo di tipo apparentemente purissimo e depuratissimo giornalista, ricordatevelo, non posso usare brutti termini qua, però come diremmo noi, un po' ruffiano lo è sempre, perché non si può lavorare senza i contatti, le fonti sono le relazioni che hai, i contatti che hai, e l'abilità sta nel saperli gestire con distanza o con vicinanza a seconda di quello che è il lavoro che devi fare. Nel corso del tempo è cambiato il rapporto con il pubblico naturalmente, quindi vorrei fare una doppia domanda, la prima parte riguarda l'autorevolezza della scrittura, dalla metà degli anni 90 la critica in generale, ma soprattutto la critica musicale e la critica cinematografica hanno dovuto affrontare un proliferare di scritture, soprattutto su web e la possibilità comunque di esprimersi e di scrivere ha portato anche a un rapporto diverso del lettore rispetto a colui che scrive. C'è veramente stata una diminuzione dell'autorevolezza del critico oppure al contrario la possibilità da parte di tutti di aprirsi un blog magari di scrivere di cinema, ha portato addirittura a un aumento dell'autorevolezza da parte di chi lo fa in maniera professionale e continuativa. Io penso che c'entrino poco la rete e i blog con la perdita di autorevolezza. Credo che abbia perso centralità al cinema, quindi l'ha persa per i giornali, l'ha persa per i quotidiani e quindi viene considerato, come dire, un'arte minore quella della critica. Tanto è vero che penso che la rete, i blog, eccetera, siano uno sfogo, invece ad un'assenza o comunque a una riduzione che si avverte molto precisa, non sulle pagine dei vari quotidiani. E' una domanda molto difficile. Io penso questo, penso che... Io per esempio sono una fanatica di Twitter. Mi piace molto Twitter, senza esagerare, nel senso che non vado a scoprire, perché poi c'è anche un problema che per un giornalista Twitter è molto utile, ma allo stesso tempo molte cose non le puoi twittare, perché se no non le scrivi più e le fornisci al concorrente. Quindi c'è tutta una... È molto democratico, ma diciamo il giornalismo non è proprio democraticissimo. Quindi c'è un uso di Twitter che è quello di diffondere e ridiffondere quello che tu trovi molto interessante e la cosa è tenersi quello che invece non vuoi regalare comunque a qualcun altro, perché il giornalismo è poi anche quello, è arrivarci per primo, è anche, come dire, esclusiva. Ma dicevo questa cosa di Twitter, perché secondo me Twitter è, diciamo, è una forma interessante... Non sai perché è una forma interessante? È una forma interessante non solo perché mette in contatto, non solo perché diffonde, ma perché impara, si impara, insegna quella cosa che non si insegna più da nessuna parte, che è tagliare. Allora, dico un paradosso, per me l'insegnamento maggiore che ho avuto, facendo molta gavetta, è stato facendo la pagina del Nuovo Veronese, che in realtà ho iniziato il Nuovo Veronese, che è ancora un'altra cosa, in cui mi hanno affidato giovanissima la pagina dei film. E naturalmente erano molto, dovevano essere molto brevi, io scrivevo delle cose in mani e c'era un caporedattore formidabile, Stefano Lorenzetto, veramente formidabile, che mi ha insegnato a tagliare, si può tagliare tutto. Tutto, anzi una delle cose che io preferisco fare è tagliarmi da solo i pezzi, tagliare i pezzi degli altri, perché veramente in giornalismo questo è magnifico. Più tagli, più rimane la sostanza. È quasi una gioia, non voglio dire quasi erotica per me tagliare. Se mi date da tagliare, vi faccio una prova qua, vi faccio vedere che a partire da 3.000 battute ve ne faccio arrivare, diciamo 400 sane, dove c'è scritto quello che volevate dire, me lo dovrei fare spesso anche sui miei testi di più. Twitter ha questa caratteristica, ha questa caratteristica di... Pronto? Ho sentito? Ma guardi, fra un po', perché qua c'è bisogno. Dopo mi dice cosa fate voi però? Un mensile. E avete un problema di tagliare? Ragazzi, avete trovato... Sono la reginetta del taglio. Faccio risalire, prenderei lo stesso dispendio da direttore? Beh ma guardi, se va via con poco, non si preoccupi, non è uno di quegli stipendi che... Dopo mi raccontate però qual è il vostro problema, perché è molto interessante questo. Ma adesso mi sono persa su Twitter, ma comunque va bene. Vuol dire che da un lato ti insegna questa gioia della brevità, è molto icastico, ti fa... Dall'altro, secondo me ti fa perdere completamente la strada dell'approfondimento. Io sfoglio Twitter la mattina, è vero che c'è tutto, vorrei sapere quanti aprono i link e quanto a lungo leggono i link che ci sono dentro Twitter. in qualche modo io credo che questa democratizzazione appunto della rete, dell'accesso a tutto, del poter scrivere, eccetera, è favolosa, però sinceramente io credo che il compito del giornalismo sia un altro, sia quello di, come dire, passare tutto questo a setaccio e selezionare per il lettore. Allora, la rete è un fantastico marasma dove si naviga, dove tutti sono protagonisti, ha cambiato il rapporto, l'editore non è più l'editore di un tempo, l'editore è lo stesso fruttore, lo stesso twittante, non so come si dica, lo stesso che scrive, il blogger, eccetera, quindi ha smantellato le gerarchie, allo stesso tempo per me, per esempio, non è una fonte o non è solo una fonte, capito, non è o non solo, perché quello che c'è in rete in qualche modo si sa già. Io invece da giornalista, da direttore, da intellettuale, da quello che volete, voglio dirvi quello che non sapete o selezionare quello che conta all'interno di questo marasma. Quindi sono due operazioni diverse ed è questo, secondo me, quello su cui il futuro si giocherà, perché, secondo me, l'esigenza di selezione e di proposta tornerà dopo l'ubriacatura della rete. Però Twitter insegna molto a essere brevi, questo sì. Come si chiama il vostro mensile? Scusa, ma... Prego. Voglio sapere del mensile? Da Biton. Eh? Da Biton. E non riuscite a tagliare? Più che altro non riesco a far capire ai redattori che più scrivono, più non che non è. Eh, basta che gli tagli tu. Scusa che è... Eh? Facciamo tutto di fare le quattro notte. Quello è molto, però, vi sembrerà una stupidaggine. Ma vi assicuro che non è una stupidaggine questa del taglio. Cioè, capire quanto è importante l'attacco, la chiusa e il tagliare un pezzo, perché se no non ve la legge nessuno. Non sulla carta. In questo la rete è molto colpevole. Stavo dicendo la stessa cosa. Il problema è che la rete ha portato... Al copia e incolla. ...è il problema delle banche. E quindi la gente pensa di poter scrivere in lettera. Infatti io, il problema più grosso che ho da quando internet, diciamo, la rete sono diventati così dominanti, è che faccio molta fatica a trovare chi abbia in mente quelle cinque regole che sono un attacco efficace, dove, come, quando, all'inizio, perché se no possiamo aspettare fino alla fine per sapere di cosa si parla, e una chiusa altrettanto efficace. Sappiamo che il lettore legge l'inizio, si è attratto all'inizio. Ma, ancora più grave, nessuno concepisce più, e vedrete che nei giornali contemporanei lo tolgono, ma questa è una mia... Nessuno concepisce più il sommario. E se lo concepisce, sono sommari... C'è una... Ci sono delle regole per il sommario. Sono dei sommari che non dicono e non raccolgono niente, non invitano alla lettura. Questo davvero è un grosso problema. È il problema di aver... Noi, per esempio, abbiamo recentemente respinto tre collaboratori a cui avevamo affidato delle cose e che hanno fatto copia e incolla. Avevamo affidato delle schede di film, eccetera. Hanno fatto dei copia e incolla che abbiamo scoperto immediatamente, perché tanto i siti quelli sono... Non è che... Noi abbiamo una persona che fa il checker, cioè che controlla... Poi ci escono delle cazzate mostruose lo stesso, però facciamo finta, diciamo, facciamo un po' gli americani su questo. Ma quando noi gli abbiamo detto scusa, non possiamo accettare questi pezzi perché sono fatti con il copia e incolla e sono copiati da qua, erano stupefatti? Cioè loro non si erano resi conto, pur essendosi offerti per check, eccetera, che noi non facciamo un copia e incolla, che tutto quello che facciamo o ha un fondamento, o è di prima mano, o è scusa, ma... Quindi c'è proprio una modalità che è cambiato, una mentalità che è molto complessa oggi. La generazione copia e incolla poi è stato veramente un po' dangeroso come passaggio. Dato che vi hai fatto una domanda su Twitter, se vuoi venire qui a dirla, senza che la riporti io. Allora, ammazza, adesso la leggo io un attimo. era una domanda... Esatto, esatto. Ho fatto un disastro? Innanzitutto buongiorno, Maurizio Loragno da Bitonto. Io ringrazio il Pool Magazine perché mi ha fatto conoscere la direttrice della mia rivista preferita, anche se poi, dopo averla collezionata, mi sono sposato, ho dovuto decidere se tenere Dylan Dogg o Chuck. Ho scelto Chuck, naturalmente. E ho scelto Dylan Dogg che continua. Hai scelto un amico, hai scelto Bonelli, quindi sono grata. No, infatti, la domanda che avevo postato su Twitter è innanzitutto come far riscoprire la bellezza del cinema, dato che i prezzi al botteghino non sono proprio popolari e la pirateria sulla rete è non, ovviamente, imperversa. Io sono convinto che tutti quanti abbiamo un hard disk con tutte le prime uscite, che poi peraltro si vedono malissimo, anche se a casa poi abbiamo il televisore in HD, quindi non so che cosa se ne facciano. La finanza non partecipi a questo. Poi, per ritornare al discorso del taglio degli articoli, noi abbiamo questo problema. Abbiamo sia una testata telematica che il mensile cartaceo. Dicevo che la rete, e concordo con lei, ha portato questo problema perché il fatto di non avere termine, uno pensa di poter scrivere quello che vuole. Eppure, ho tentato di porre di fronte alle proprie responsabilità ai redattori perché quando mi mandano un pezzo che è lunghissimo, non faccio altro che rimpicciolire il carattere sperando che, siccome non li leggono, la prossima volta mi mandano un pezzo più decente. Mi è capitato, e con questo concludo e concordo con lei, quando ho fatto dei pon di comunicazione nelle scuole totalmente gratuiti, perché non posso permettermi di farmi pagare per altre situazioni, anche come direttore di giornale, dicevo ai ragazzi se volete fare giornalismo il vostro stipendio deve essere la capacità che un lettore cominci a leggere il vostro pezzo e arrivi fino al punto. perché nel momento in cui un lettore comincia a leggere il pezzo e a metà del pezzo gira la pagina vuol dire che ci ha bocciato e quindi non ci ha pagato. Solo questo, grazie. vuoi dire qualcosa tu rispondo io? No, no, prego. No, ma in realtà sottolineava, allora, qui però stiamo parlando di carta, questo dobbiamo dirlo, cioè tutte queste regole, a parte che io non sono d'accordo su rimpicciolire, fare il kern sulla caraccia. Uno deve essere messo di fronte alla sua cosa, glielo rispedisci, se lo taglia in generale però nei giornali si taglia il pezzo dell'altro perché da solo io a me riesce fino a un certo punto quando vedo che non sono più capace lo do a qualcun altro perché è evidente che da solo nessuno soprattutto all'inizio rinuncia alle proprie meravigliose locuzioni e agli aggettivi eccetera non sono d'accordo glielo farei tagliare glielo taglierei glielo farei tanto non si ne accoggerà mai che non lo leggono perché non glielo dirà mai nessuno quelli che parleranno con lui gli diranno che l'hanno letto quindi lui sarà convinto che l'hanno letto tutti stiamo parlando però di carta devo dire che l'errore è commisurare cioè mettere sullo stesso piano carta e tweet allora io penso che così come non funziona il il metodo blog il metodo portato su carta così credo che non ci sia nessuna tenenza fra la comunicazione su carta e quella su internet internet i blog sono un'altra cosa è un'altra forma di giornalismo è un altro modo di scrittura anzi è un modo di non scrittura ma è un modo di informazione audiovisiva visiva visuale veloce a sfoglio era la parola orizzontalità che abbiamo usato prima e su che credo che poi Gianni Canova saprà ritornare magari nel pomeriggio ancora meglio è esattamente un altro mondo e un altro universo ed è per questo che è difficile il passaggio perché è molto difficile il passaggio perché chi ha fatto finora i giornali comunque non è nativo digitale comunque non può avere quella voi vedete i bambini a me mi impressionano io ho visto appunto il mio cosa che sulla vasca all'acquario stava a fare così perché c'era i pesci e andava a sfioro perché pensava che si spostassero come su sull'iPad cioè con il touch quindi è chiaro che lì è stato saltato interamente un passaggio allora penso che non ci sia commistione fra i due penso che i due dovrebbero andare a integrazione è inutile cioè ormai tutto il mondo dell'informazione del servizio della cosa va sulla rete sui telefonini sulla telefonia su tutto la carta oggi deve trovare il proprio senso se lo chiedete a me oggi non non ve lo so dire bene spero non credo che sarò io a farlo ma credo che ci vorrà un decennio forse qualcosa in più perché la carta ritrovi una centralità dall'esaurirsi probabilmente della bolla web però questo è molto difficile al momento è possibile una compresenza ma attenzione il problema è che tutta la pubblicità si sta spostando vedete che non sto facendo l'elogio a critico tutta la pubblicità si sta spostando su televisione e velocemente su web cioè a dire che la carta non la vuol più nessuno e con questa simpatica cosa mi butto dal no ma è così ma tanto io voglio dire questa l'abbiamo fatta poi nella prossima vita accanto alle domande prettamente giornalistiche ne stanno arrivando anche alcune più sul cinema Monica Menduni chiede quali pensa siano gli altri attori emergenti delle serie tv che potranno spiccare nel mondo del cinema ma queste arrivano da twitter non lo so può darsi di sì secondo me Camberba c'è quello più forte Brian Creston sono forse ma ce ne sono tanti anche hanno fatto serie tv però i due che vedo più forti in questo momento sono sono questi due proprio come come forza sicuramente adesso ho fatto così a bruciapelo dimentico qualcuno aspetta fammi vedere se mi hanno scritto qualcosa perché però sì mi vengono in mente questi due questi due mi sembrano sono quelli più forti sul futuro anche con molti progetti ma anche se sono stati scritti insomma già libri su questo argomento le serie televisive oggi rappresentano la nuova narrazione e sembra quasi che si possa fare un parallelo tra il romanzo d'appendice di un tempo e le serie narrative di oggi in che modo lei crede che stiano modificando il cinema e perché molti registi importanti stanno passando dal grande schermo al piccolo schermo con le serie tv un esempio è David Fincher con il bellissimo House of Cards beh insomma io sono piuttosto appassionata di serie tv sono appassionata di serialità sono anche molto femminile in questo mi piace molto star lì che poi dopo c'è la puntata successiva e dopo capire cosa succede mi piace molto farmi diciamo il farmi la serie completa in un però in un in un weekend in un colpo solo eccetera vorrei testimoniare che non sono nata ieri però mostrandovi il mio fondoscrivania così almeno sapete che che non viene più perché non viene più beh fantastico vabbè comunque c'è il trono di spade Emilia Clarke trono di spade come mai prima è venuto adesso no? è venuto l'altra devo spegnere sì lo devo spegnere allora io credo questo che ci sia più investimento più novità e più più investimento tecnologico più investimento economico più lunga durata quindi più maggior spazio alla narrazione sono più spudorate proprio perché possono stare su molte penso per esempio appunto a Breaking Bad penso a penso proprio a Trono di Spade eccetera rischiano e osano di più anche avvicinandosi al kitsch quindi al romanzone popolare però hanno una qualità produttiva eccetera che oggi il cinema non è più oggi il cinema si accontenta oggi il cinema è piccolo anche nel caso dei romanzoni dei filmoni dei blockbuster hai l'impressione rispetto ad alcune di queste serie che la qualità sia degli attori che delle intanto sono corali quindi hanno tanti protagonisti tante sfumature di personaggi tanto lavoro attorno ai personaggi perché possono evolvere attraverso il tempo no ve lo volevo dire perché non pensiate che eccola qua Emilia Clark ma io penso che sia questo e per un regista di cinema è sicuramente oggi una possibilità molto forte di mettersi in gioco anche lavorando con una troupe importante lavorando su degli estremi anche narrativi che il cinema magari non non consente più perché comunque il cinema si chiude in un tempo il film si chiude in un tempo narrativo che è quello anche quando vogliamo esagerare che è attorno alle due ore due ore e dieci quando ma che non consente più quello sviluppo proprio da da romanzo popolare che vale per House of Cards come per appunto Trono di Spade quindi questa mi sembra la grande caratteristica soprattutto un investimento e un ritorno che insomma che è importante ecco e i personaggi sono perché nascono lì perché appunto Camberbush Brian Creston noi li individuiamo come alcuni poi invece non fanno il passaggio dal cinema John Hamm per esempio non riesce a fare così tanto il passaggio da Mad Men al cinema anche perché spesso queste serie ti soffogano e ti fanno lavorare molto però penso che abbiano una spacettatura di ruoli di impegni di impegno recitativo eccetera che che intanto li addestra molto di più è la vecchia palestra degli studios che non ci sono più che sono diventati le serie televisive i serial e d'altro canto alcune alcune di queste appunto il mito la mitologia si è spostata su questi su questi personaggi più che su quelli di cinema il fatto che adesso Netflix arrivi anche in Italia lei che cosa crede che potrà accadere cioè seguiremo un po' quello che è accaduto negli Stati Uniti ormai già un decennio fa oppure il pubblico italiano forse non è ancora pronto ad affrontare questo tipo di narrazione seriale ci sono degli esperimenti anche di web series insomma come risponde il pubblico all'arrivo della narrazione cinematografica online attraverso le web series e attraverso dei colossi come Netflix a me sembra ci sia da quello che capisco io un'enorme sensibilità alle web series bisogna però dire che tutti se le scaricano cioè dobbiamo dirci la verità se non esci da qua e se non me lo metti così su su adesso su Twitter perché purtroppo tutto in streaming viene registrato no purtroppo io sono abituata a dire la verità allora la verità è che e questo non piace sono stata molto attaccata per una cosa che ho detto però diciamo così fino a due anni fa noi ci scrivevano i lettori chiedendoci di parlare come trovo questo film che non riesco a trovare o che non riesco a vedere perché non arriva in Italia perché arriva troppo tardi adesso da due anni ci scrivono i lettori con la recensione di film che noi non abbiamo ancora visto allora non sarà che improvvisamente sono stati dotati tutti del sesto senso no è che hanno deciso di come dire a di reagire ai ritardi distributivi e anche alla censura di mercato italiano andandosi a prendere i film dove ci sono oltretutto gratis quindi non è che gli si può dire che allora questo è un dato di fatto cioè che facciamo finta di non vedere facciamo finta di non sapere che ci sono cinque siti su cui se abbiamo perso un film anzi noa c'è già e non è e cioè a me questo è sempre sembrato una grande ipocrisia non poterlo dire perché la gente fa così il tassista a me mi ha detto ma perché lei non scarica così proprio era cioè si è spaventato perché aveva tutto mi ha detto vuol vedere un film durante il tragitto a Milano si è organizzato aveva tutto gli ho detto ma che film ha tirato fuori un film che gli ho detto ma questo non è uscito che quasi quasi volevo vederlo ho detto però purtroppo era un genere diciamo il tassista non era proprio tarato sul genere d'autore e lui mi ha detto no ma certo sono tutti scaricati ma perché lei non scarica così quindi il sentimento diciamo è questo le serie televisive secondo me le vedono tutti ma perché le sanno tutti cioè perché la quarta serie la sanno già se non è andata in onda tutti sono andati a comprarla a Londra le ha portate a cosa l'anno terzo no vai su qualsiasi sito e la vedi del resto voglio dire ci sono serie meravigliose meravigliose che da noi neppure arrivano e quindi è così quindi credo che la sensibilità ci sia da quello che risulta almeno sul campione dei miei lettori vedono molto le serie e penso che sia tanto è vero che abbiamo aperto uno spazio opposto penso che sia la nuova cinefilia se ancora esiste questo termine e penso che Netflix sai io conosco gente adesso è chiaro che frequento un mondo anche un po' che c'ha già Apple TV si vede tutti i film direttamente con le carte di credito americane quindi legalmente però bisogna avere la carta di credito americano o l'account americano che hanno fatto delle cose in casa dove vedono tutto in quindi io penso che questo non sia un male penso che anzi bisogna trovare sempre di più il modo per evitare la piaga della pirateria perché diciamo insomma si può fare finta di niente ma qua si vedono i streaming prima dell'uscita in sala con i sottotitoli con i ragazzi volete tradurre con noi si venite grazie allora non facciamo molto come dire non nascondiamoci dietro un dito la grande battaglia è sicuramente quella sulla pirateria però dobbiamo fornire gli strumenti per vedere tutto su vari supporti legalmente con un sistema che ci consenta di pagare il giusto e io penso che anche io penso che Netflix sia straordinario stanno arrivando delle domande quindi adesso le farò cinema però sulle serie però volevo appunto volevo che sono preparata insomma volevo collegarmi proprio a questo argomento e fare una domanda che vorrei porgere anche ad Antonella Gaeta ad entrambe che riguarda la distribuzione cioè il rapporto con la distribuzione e quindi anche con la critica rispetto alla distribuzione è cambiato nell'ultimo periodo sono sempre di più anche i film evento no? ieri per esempio ahimè mi sono perso il prequel di Ghost in the Shell che è un'opera cinematografica di Mamoru Oshii che secondo me nel cinema d'animazione è imprescindibile e quindi come è cambiato il rapporto con la distribuzione e come è cambiato il rapporto del critico anche nei confronti della distribuzione la vorrei fare sia a Piera de Tassis per quanto riguarda ciò che anche per le scelte editoriali che vengono fatte la vorrei fare il direttore di Apulia Film Commission perché c'è un circuito d'autore in Puglia che ha cercato di privilegiare anche la distribuzione di film che solitamente non hanno una grande circuitazione e nascono già con una specie di difetto di fabbrica cioè uscire magari solo in dieci sale in Italia chi vuole rispondere prima? Antonella perché non voglio sentire il circuito delle nostre cose si noi abbiamo un circuito che si chiama circuito d'autore sono un circuito di 21 sale sul territorio pugliese e credo che sia un circuito abbastanza inedito a livello italiano praticamente si sostiene ciascun cinema con 35.000 euro l'anno affinché programmi cinema d'autore e quindi privilegiando autori italiani e autori internazionali è esattamente la tipologia di film che difficilmente viene come dire accaparato in 400 copie su tutto il territorio italiano quindi capita spessissimo che dei film escano in Puglia escano a Milano forse a Roma e questo fa della nostra regione è una specie di territorio protetto e quindi spesso cosa accade è che il rapporto tra il direttore del nostro circuito d'autore e le produzioni e le distribuzioni anche con le produzioni stesse sia diretto perché c'è un nuovo tipo di distribuzione oddio c'è sempre stato cioè cercare di far uscire le copie disseminarle sul territorio stiamo parlando di 20-30 copie di film che magari sono stati ai festival che non hanno avuto possibilità non hanno una distribuzione forte che aggredisce la rete dei Cine in questo caso nel circuito sono protetti spesso e volentieri cosa si fa si unisce alla presentazione del film che può durare in sala può avere una tenitura in sala di una settimana due settimane si unisce anche l'incontro con l'autore e quindi la possibilità di ragionare anche sul film stesso sì in questo caso il circuito d'autore è una specie di isola felice questo indubbiamente che ci permette di vedere tanto però sulla distribuzione un po' la situazione e qui ce ne parla sicuramente Piera è un po' la medesima insomma sempre sì sì no e Antonella ha parlato veramente di un'isola felice poi chi conosco bene tra l'altro queste isole felici peraltro facendo un festival su un'isola che è Tavolara dove improvvisamente arrivano duemila persone per vedere dei film che magari in una situazione normale non andrebbero a vedere o non passerebbero la sala io penso che tutto quello che fai per il cinema va benissimo penso però che si distribuiscano troppi film per esempio cioè ci sono rispetto al mercato e alla possibilità di recepire oggi il mercato della sala cinematografica io quando vedo questi fine settimana con otto nove dieci uscite di cui cinque italiani destinati proprio lo sai da mesi non si sa perché tu lo sai da mesi che sono destinati al nulla e chi li produce li distribuisce li mette in sala sembra non saperlo allora questo è una delle cose che non sono mai riuscita a spiegarmi perché quando io parlavo della preveggenza adesso non voglio a volte prevedo male per carità però com'è possibile non regolare in qualche modo un mercato di distribuzione che manda in sala a morire tutta una serie di film e di prodotti soprattutto italiani ma non solo che tu me lo dici due mesi prima tre mesi prima anche sei te lo dico guarda non fa una lira te lo dico io te lo dice lei probabilmente tu dici Gianni Canova no cioè eppure insistiamo con questa cosa allora io credo che andrebbero creati diversi mercati a questo punto diversi supporti cioè ci sono film che devono ancora glorificare la sala e rendere in sala ma ci sono film che possono avere che sono splendidi importanti che possono avere anche altri percorsi che possono uscire in contemporanea su altri supporti che si possono vedere così cioè il mercato deve essere cambiato secondo me non è possibile continuare a pensare a questa cosa della sala come una cosa sacrale che non si può toccare quindi io devo è chiaro che poi devo uscire in sala perché se no dopo non vado in dvd non faccio la vendita televisiva però non è neanche possibile ridurla a questo deserto inevitabile in cui adesso io non ho in mente neanche l'uscita di questa settimana beh ce n'ho anche però tu tu lo sai già insomma che cosa fanno adesso le ultime due weekend sono già che comincia il sole ho visto abbastanza inquietanti come incassi allora questo posso dire non sono però una specialista non so non ti saprei dire qual è la soluzione reale capisco però perché vedo il certe volte mi chiedo se chi fa questo lavoro vede il pubblico reale o no no cioè quando tu fai ciac lo devi sapere che quando si sposano non lo comprano più lui l'ha detto prima è una delle cose che io ho imparato fin da piccola non so perché si sposano smettono di comprare ciac si vede che ci sono degli investimenti bambini non so è una cosa c'è l'amore non lo so comunque è un dato allora le stesse cose le devi sapere quando fai l'altro mestiere no cioè che cosa funziona e cosa non funziona devo cambiare il sistema di di lanciamento di e si dice lanciamento perché ho bisogno che di devo cambiare il sistema appunto i supporti devo differenziarli per i diversi film mi fermo se non diventa troppo lungo un'altra domanda difficile c'è oppure questi di twitter una un po' stupida non la fanno no no stupida no ne faccio una che stanno scrivendo riguardo alle serie però ne faccio una che riguarda il cinema fondamentalmente perché volevo parlare proprio del fatto che il cinema in Italia ha un unicum cioè tutti i film sono doppiati vedere un film in lingua originale almeno ma scusa l'ho dimenticato che l'altra cosa splendida della pirateria che le vedi in originale con i sottotitoli infatti per qualcuno come me ho detto l'altra cosa splendida della pirateria per quelli che usano la pirateria perché se ne rimane registrato c'è gente come me che è spronato a scaricare legalmente anche o illegalmente perché c'è la volontà di vedere determinati film ad esempio in lingua originale nebrasca per me è un esempio legalmente nebrasca è un esempio hair ha fatto parlare soprattutto più che del film visto che si è parlato appunto di Scarlett Johansson eccetera quindi scrive Monica Menduni perché le serie tv ma io direi il cinema perché le serie tv non le danno in diretta in lingua originale su canali nazionali italiani cioè che cosa manca perché le serie le serie non le danno leggo tutte in diretta in lingua originale su canali nazionali italiani cioè che cosa manca all'Italia per fare un salto perché danno i film in lingua originale no appunto cioè manca che non c'è proprio la tradizione della figura di le serie tv in lingua originale no manca che c'è non c'è c'è pochissimo la tradizione della della lingua originale della versione originale scusami e anzi vi ricordo che questo è il paese dove per anni ci siamo raccontati che avevamo i più grandi doppiatori i migliori i più belli i più straordinari che probabilmente è vero cioè noi ci facciamo un vanto di avere i migliori doppiatori come abbiamo fatto a stabilirlo non lo so perché io penso che i giapponesi magari saranno magnifici ma nessuno di noi sarà mai in grado di saperlo il problema è che noi non abbiamo l'alternativa mentre in altri paesi tu puoi vederlo in originale puoi vederlo doppiato se vuoi perché io capisco anche che c'è gente che c'è il problema dell'inglese il problema della lingua originale il problema dei sottotitoli che per molti è faticoso il sottotitolo per molte persone è ancora faticoso soprattutto diciamo se non giovanissimi eccetera però noi non abbiamo ed è gravissimo non abbiamo l'alternativa io sinceramente vedo tutto in originale quasi tutto perché o tra festival o film che mi fanno vedere le anteprime quella cosa devo anche dirvi una cosa che quando poi scrivo su un film che ho visto in lingua originale la mia recensione quando poi lo vedo doppiato mi rendo conto che non c'entra più niente perché il doppiaggio trasforma il film nei tre quarti dei casi il doppiaggio soprattutto banalizza trasforma il film lo fa diventare un altro film è un'esperienza abbastanza mistica devo dire questo poi da quando ho visto Alberto Soli doppiato in francese nella famosa scena dei lavoratori ho capito cosa può essere il doppiaggio se percepito da appunto dal coppio che Alberto Soli Travailleur era veramente il stesso Travailleur però insomma noi non abbiamo figurati facendo le serie in originale io credo questo credo che sempre di più sarà il trionfo poi non so cosa intenda con reti nazionali esistono reti nazionali ancora? la tv generalista esiste ancora? c'è qualcuno vede sotto i 60 la tv generalista? italiana? chiedo Sanremo non so se c'è qualcuno in sala c'è qualcuno sotto i 60 ci sono allora a me sembra che ormai ognuno crea il proprio consumo televisivo da appunto dal digitale alle reti fino al consumo attraverso internet quindi mi pare che le reti nazionali sia come dire una frase che non so cosa intenda ecco non so cosa volesse dire perché se dice sky o si penso che intendesse noi dobbiamo salutare Antonella Gaeta perché ha degli impegni domani ripeto parte il bifest quindi saremo tutti lì grazie mille per tutto il supporto se mi iscrivete la pubblico la prossima volta adesso allora io continuo ad intervalli con domande di tipologia diversa ne faccio una diciamo allegra perché Di Caprio non ha mai vinto l'Oscar nonostante sia uno degli attori più amati del grande pubblico scrive Sabrindi cosa non piace di lui alla critica ma guarda è una battaglia che noi noi di cià che abbiamo portato avanti con forza e determinazione ma abbiamo fallito ogni volta ogni volta vince come miglioratore per i nostri lettori io stessa avevo detto avevo fatto un tweet di grande successo devo dire ho detto se non vince questa volta l'Oscar quando ho visto il film di Scorsese mi incateno dopo non ho potuto incatenarmi perché dovevo lavorare però insomma io credo che lui abbia scelto una carriera che dà fastidio sostanzialmente a Hollywood al sistema di Hollywood non si è è uno dei è passato attraverso un successo clamoroso da teenager diciamo poco più che teenager non si è fermato là ma ha scelto un percorso molto molto più impervio è diventato è cresciuto come attore e ha scelto di lavorare soprattutto sotto il marchio di Scorsese Scorsese sicuramente non è un beniamino dell'academy non è un regista accomodante non lo sono i ruoli che fa Di Caprio perché certo ha scelto il ruolo in Wolf of Wall Street è un ruolo molto molto provocatorio tra voglio dire anche estremo no? tra parolacce sesso cosa e scomodo scomodo quindi poi quest'anno che era davvero l'unico anno in cui eravamo fino ad un certo punto sicuri poi certo è arrivato Matthew McConaughey e lì si è capito che non avrebbe più vinto perché Matthew McConaughey è in questo caso il personaggio perfetto per per l'Oscar no? perché è uno che fino all'altro ieri faceva surf te lo ricordi solo per questo e poi improvvisamente è diventato un grande attore ha infilato tre ruoli più una serie televisiva True Detective tra l'altro straordinario è il classico uomo che svolta che cambia vita che passa dal fatto che lo arrestano un udo coi bonghi al 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 grande ruolo anche di anche al ruolo di come dire di complemento come no può essere in Wolf of Wall Street quindi perfetto purtroppo anche stavolta Di Caprio si è trovato sulla strada uno che era più nel cuore dell'academy insomma più più non so Di Caprio si deve non ha non ha dovuto riscattarsi e già questo è un difetto per l'academy e poi soprattutto c'è il fattore scorsese che secondo me è il fattore delle scelte che non sono accomodanti per il mondo Oscar ecco ma ma ce la farà prima o poi Leo noi lo sappiamo sappiamo che il cinema mondiale ha una sorta di identificazione con il cinema americano ma a parte le ragioni prettamente di marketing c'è qualcosa altro per cui gli Oscar sono ancora così importanti sebbene rappresentino una parte del cinema mondiale sai che quest'anno Varaiti o Oliver Varaiti ha inaugurato l'Oscar del mondo cioè ha fatto ha fatto per la prima volta un un contest come si un concorso insomma e con mi pare 80 votanti critici 50 votanti attori per creare proprio l'Oscar del mondo cioè non solo l'Oscar del film straniero ma sopra l'Oscar del mi ricordo più che ha vinto so solo che la grande bellezza era quinto ma non mi ricordo forse la vita di Adele forse il premio era andato a vita di Adele che adesso distribui in edicola che è una sorpresa ho visto in edicola la vita di Adele in edicola con Chuck no 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 dico è stata una sorpresa in edicola con Chuck è stata una sorpresa vedere un film del genere in edicola perché è un film di due ore e mezza che racconta esatto è in edicola con Chuck a solo l'ho servita hai servita ma eri impreparato tu ho visto ecco ma l'ho visto io a solo è un ricottordici e 90 no ma è servito sì però no che cosa dicevo perché siamo andati su questa strada no stavamo dicendo del fatto che il cinema oggi ha ancora una forte rappresentatività no volevo dire che lo stesso lo stesso Variety scusami che è comunque dentro il business proprio lo showbiz americano assieme a The Hollywood Harry Potter e quello che lo rappresenta meglio loro stessi si sono posti la domanda e si sono detti ma è possibile che l'Oscar riconosca solo il cinema americano di fatto però così è nato l'Oscar e così è non si può negare che il cinema americano sia il cinema che in qualche modo segna l'immaginario mondiale e non solo il box office mondiale quindi io non mi sono mai posta questo problema devo dirti sinceramente quindi è una domanda a cui cerco di rispondere divagando però prendo l'Oscar per quello che è l'Oscar è sicuramente una delle delle grandi manifestazioni della mitologia del cinema la mitologia del cinema anche a livello popolare è il cinema americano su questo oggi ripeto il fatto che Variety si ponga il problema significa che probabilmente il mondo si sta veramente diversificando anche perché il mercato il mercato più forte oggi comincia a essere la Cina per dirne una quindi è chiaro che si spostano tutti gli equilibri ci sarà una più difficile oppure possiamo sperare a questa no c'era stata quella di Di Caprio che era facile ne faccio una media ma questi arrivano scusa posso chiedere io stanno arrivando delle domande o erano già no quando arrivano delle domande da no no stanno arrivando in questo momento ma arrivano da dove da twitter da twitter alcuni sono in streaming alcuni sono in sala però abbiamo impostato anche il fatto di se c'è qualcuno in sala si può tranquillamente prenotare Coramano sì perché così una fa un volto certo comunque un saluto a tutti quelli di twitter che così allora sempre Monica Menduni sempre da twitter chiedeva perché i supereroi non conquistano più il pubblico io volevo anche ampliare questa domanda chiedendo se è cambiato è chiedendo anche l'ho detto io sì no no scusate io intendevo in quel momento stavo parlando di copertine e di giornali credo che a un certo punto hanno conquistato e vendevano pure è successo che poi adesso non possiamo continuare a mettere dei non umani in copertina cioè hanno dopo il fenomeno di Avengers quando ne hanno messi tutti insieme adesso credo che si vada verso una sorta di implosione della passione per i supereroi perché perché c'è un eccesso proprio di c'è un eccesso di supereroi ma non è che non funzionano stavo parlando adesso sui giornali e quindi mi riaggancio a questa domanda chiedendo se negli ultimi anni la critica secondo lei ha avuto nei confronti del cinema di genere uno sdoganamento ancora maggiore per esempio con un approccio diverso verso il cinema di animazione un approccio diverso verso il cinema fantasy il cinema degli anelli è sicuramente stato un biatico dopo il fantasy degli anni 80 quindi si è cambiato anche un po' l'approccio oltre che del pubblico nei confronti del cinema di genere soprattutto da parte della critica e col cinema di genere io intendo anche il cinema che riprende il fumetto e lo porta sul grande schermo una cosa che è sempre accaduta ma probabilmente negli ultimi anni grazie anche alle tecnologie agli effetti speciali al 3D si è amplificato ancora è rimasto tutto uguale o è cambiato qualcosa? No noi in questo numero che è questo 4,50 euro edicola assieme alla vita di Adele in questo numero voi vedete che abbiamo scritto 20 anni dopo Pulp Fiction il film che cambiò il cinema io avrei voluto scrivere il film che cambiò la cinefilia perché effettivamente lo sdoganamento nei confronti del cinema di genere che è già venuto diciamo con i grandi con Milius Spielberg insomma negli anni negli anni 70 dallo squalo in poi vogliamo dire dallo squalo in poi lo squalo è stato il film che ha segnato un po' il rinnovarsi del cinema di genere d'autore contemporaneamente da lì in poi non abbiamo più saputo se Spielberg fosse un autore o fosse un regista di genere qual era il confine fra il genere e l'autore hanno un po' rivoluzionato tutto sicuramente con Pulp Fiction con Tarantino siamo arrivati alla rilettura della cinefilia attraverso addirittura il recupero del cinema di serie B del a perfino del cinema di serie B italiano quindi è molto molto cambiato il rapporto con la cinefilia e con l'autorialità l'autore non è più la parola autore non è più quello a cui corrispondeva negli anni 60 quello in Univell Vague eccetera oggi Christopher Nolan è un autore eppure fa Batman Dark Knight diciamo Dark Knight vai che suona meglio Sembrahimi forse ha fatto il contrario quasi da essere di genere con i primi film adesso ha raggiunto uno status diverso parli di Sembrahimi esatto Sembrahimi all'inizio era semplicemente però da subito io mi ricordo Sembrahimi si era distinto già perché comunque all'interno del genere faceva un lavoro d'autore un lavoro un po' diverso però appunto passano qua e arrivano poi all'autorialità cioè è molto complicato oggi dire ma così come io in Copertina Noa che ho già visto che voi vedrete domani allora qui abbiamo un autore Aronofsky perché sarebbe un autore nelle sue origini Aronofsky sarebbe un autore che fa un polpettone biblico con alcune punte d'autore quindi è lo scambio e la confusione è continua credo che il lavoro sul genere comunque sia un lavoro che qualsiasi autore oggi si impone di fare o su cui si impone di ragionare ecco perfino voglio dire perché gli autori che noi citiamo oggi non sono più gli autori come che ne so Trufogodare eccetera noi citiamo Tim Burton Tim Burton fa un cinema fa un cinema straordinario che è anche un cinema di genere quindi che mette l'horror il fantasy eccetera il 3D credo che è il 3D ecco quando mette il 3D magari Alice sì e quindi è chiaro che tutto si è molto molto mescolato felicemente devo dire mescolato dagli anni dagli anni dalla fine insomma dagli spin in poi tutto si è mescolato Tarantino rappresenta la riflessione proprio su questa è il dopo no? si è sempre parlato poi di come dire di post modernità in questo caso quindi poi insomma gli autori di oggi e poi ecco per esempio David Russell che secondo me è un grandissimo autore di oggi se prendiamo se rimaniamo sull'America naturalmente anche lui lavora tra il genere perché fa American Russell vuol dire ha dichiaratamente molti debiti con il noir con con il crime storico la detective storico più che altro con un cinema d'epoca eppure è un cinema che all'interno è un cinema d'autore un cinema di regia io invece volevo parlare di un aspetto molto importante che è quello della censura che in Italia ha ancora spazio l'esempio di di Lars von Trier il film è uscito ieri ma comunque in una versione dappertutto però ok io parlavo dell'Italia perché non conosco il resto ma lui aveva già subito censure con Idioti aveva subito censure con la serie tv sull'ospedale mi sfugge in questo momento il nome in Italia abbiamo avuto degli esempi prima Resco sono stati censurati quindi qual è ancora il rapporto tra censura e cinema e poi seconda parte della domanda tempo fa parlando con Antonio Arezza lui diceva che questa non è vera censura quella che è successa per esempio a Cipri e Maresco non è stata vera censura perché anzi ha amplificato la visibilità di un film che per le sue caratteristiche sarebbe magari passato in sordina la vera censura è quella dei film di cui letteralmente non si parla quindi qual è la sua posizione su questo? Che come sempre quel genio di Arezza ha ragione io questa non la non l'avevo sentita io lo apprezzo molto Arezza e mi pare che questa sia la cosa giusta guarda io sulla censura proprio posso dire che non me ne importa nulla nel senso che penso che non ci sia quasi niente da censurare se non tutto quello che attiene sicuramente non sull'erotismo sul sesso sul porno sicuramente sono più sensibile a tutto quello che può essere violenza o atteggiamenti cioè starei attento ecco secondo me per esempio io sono una di quelle che ama la Sfontrier non tutto tra l'altro parte oggi appunto la serie ma sono d'accordo che ha detto una cosa molto grave a Cannes e che Cannes ha fatto bene a bandirlo quella volta che ha parlato di nazismo comincia a capire Hitler secondo me ci sono dei confini sulla censura cinematografica credo che un buon film possa dire tutto un brutto film non debba dire niente cioè non debba parlare di niente perché il confine è sempre quello no? Nymphomaniac è secondo me un grandissimo film tutti i due capitoli è stato tagliato da lui la versione che voi vedete è tagliata dallo stesso Lars von Trier c'è scritto poi è uscita così in tutti i paesi solo a Berlino si è vista la versione adesso non so se in Danimarca si è uscita già anche la versione la versione con le parti hard che devo dire fanno poca differenza rispetto alla cosa io credo che nel caso di nymphomaniac non si possa parlare di censura perché se l'è fatta tutta da sola se l'è censurato se l'è girato in idioti però no gli idioti no cioè in idioti c'è una parte fondamentale del film che non esiste in Italia che non esiste in Italia è assurdo no no ma è assurdo ma se tu mi chiedi un'opinione sulla censura ci dico è assurdo cioè non ho neppure un'opinione penso che la censura non debba esistere che delle misure di precauzione debbano essere affidate sicuramente a famiglia e tutto quando si tratta di minori certo non è che sono così responsabile da dire che tutto può essere mi preoccupa di più la violenza che non appunto la questione del nudo della sessualità della pornografia questo sicuramente sulla violenza non ho non ho grandi opinioni io sono una in grado di digerire tutto perché guardo soprattutto il film però mi rendo conto che ci sono dei limiti da cosa finisco solo una cosa poi per quanto riguarda la Sfontrier è talmente un gioco di falso questo film ripeto per me è bellissimo un straordinario film però è un grande falso perché appunto in realtà la sessualità il porno lui l'ha girato non con gli attori quindi quello che vedi anche di esplicito neanche nella versione censurata è tutto in digitale non si sono manco spiorati gli attori e a fianco c'era un set dove gli attori porno giravano le inserti porno quindi ancora una volta è un gioco di la Sfontrier quindi è un gioco sulla falsità e sul vero e in questo è un grandissimo film è molto meno erotico e porno di quello che chiunque possa immaginare è molto forte nella seconda parte nella parte del Sadomaso ecco quello sì però lui vuole vuole qua perché dice che devi registrare là vieni che così oppure anche là se vuole sì volevo fare buongiorno innanzitutto volevo fare una domanda sul mercato recentemente approfitto del fatto che qui Gianni Canova in un numero di micromega ha scritto che siamo il popolo più ignorante dal punto di vista iconico iconografico e quant'altro nonostante siamo immersi in tanta bellezza un alfabetismo iconico credo che abbia usato però non c'è adesso occidenti scrisse anche lei su quel numero di micromega e quindi mi chiedo il mercato il marketing ha sempre ragione penso all'ultimo film di Checco Zalone che essendo stato distribuito in così tante copie è stato comunque portato a essere un campione di incassi oppure come suggeriva lo stesso Canova non sarebbe il caso di educare lo sguardo dello spettatore italiano magari col cinema sperimentale o il documentario grazie sì allora vorrei dire con una battuta che se li educhiamo solo col cinema sperimentale e documentario secondo me vanno a vedere Checco Zalone partiamo io credo che sull'analfabetismo iconico mi pare che usasse proprio questo Gianni sì ah c'è Gianni è lì ma scusami ma non possiamo farlo intervenire tanto cosa fa sto pomeriggio io l'avevo invitato qui però credo volesse dai vieni un attimo perché se mi allora io credo intanto di ricordare mi ricordo molto bene questa frase su cui sono molto d'accordo ci dividono alcune posizioni credo sui soliti idioti ma qui sono l'importanza sì sì nel senso che Gianni è pro io sono contro ma ma neanche contro c'è agnostica proprio non possiamo dare un benvenuto anche a Gianni Canotti esattamente no adesso cerco di sbolognati qualche tweet particolarmente complicato io credo che noi siamo sì un paese poi lui lo dirà con molta più autorevolezza ma hanno inventato lui il termine io credo che il nostro problema sia che il cinema non esiste sono state che il cinema le immagini il linguaggio per immagini eccetera è uno dei grandi assenti dall'educazione da fin da piccoli dalla scuola non si sa che cosa sia non viene trattato come quando va bene viene trattato come l'insopportabile cineforum di cui si trattano perché c'ha dei contenuti o perché quel film parlava della mafia o perché quindi viene trattato a livello proprio quasi di illustrazione di eventi e fenomeni social storici di cui bisogna parlare non esiste alcuna formazione se non inventata borracciata e vi devo dire peggio perché ne ho appena scoperte alcune che non denuncerò qua perché voglio essere sicura ma addirittura ci sono dei progetti che girano per scuole italiane firmate da attori di serie televisive di quarto tipo proprio quindi manca assolutamente questo è il grande assente siamo l'unico paese occidentale in questa situazione esatto siamo l'unico proprio l'unico ma nel senso che siamo l'unico paese questo lo dico per i giovani scusa Piera no no va benissimo siamo l'unico paese dell'Unione Europea ma direi del mondo occidentale in cui uno studente può arrivare al massimo livello della formazione superior universitaria liceo classico senza sapere chi è Stanley Kubrick o senza sapere chi è Federico Fellini senza aver mai visto e vi confesso io e Piera abbiamo in comune il fatto che abbiamo fatto tutti e due giornalisti poi Piera fa come secondo lavoro la direttrice di festival io faccio come facevo io faccio il docente il mio primo lavoro io insegno cinema all'università e questo mi ha portato negli ultimi anni per fortuna a girare il mondo e a fare lezioni e a scoprire che tu vai in Polonia in Spagna e trovi gli studenti polacchi e tu arrivi ma parliamo di Pietro Germi e tu vai in Italia e Pietro Germi nessuno sa chi è prima cosa quindi siamo un paese di analfabetismo filmico totale a novembre Piera ero casualmente a Parigi ero a Parigi per una conferenza e all'aeroporto compro Liberation e trovo e trovo su un giornale quotidiano francese tre pagine dedicate al film Salvo che è un film italiano che era quest'anno a Cannes ha vinto il premio della critica se non ricordo male a Cannes senza avere distribuzione in Italia e quando è uscito in Italia i media italiani l'hanno snobbato in Francia un qualunque quotidiano francese tre pagine e poi sempre sullo stesso numero di Liberation due pagine su una retrospettiva dedicata a Pasolini che lo stesso giorno inaugurava la Cinemateque francese ma voi ve lo vedete il Corriere della Sera Repubblica il giornale che danno cinque pagine al cinema su questo siamo veramente un paese di analfabeti filmici ma da tantissimo tempo faccio un esempio una fase della mia vita in cui anch'io ho fatto il giornalismo militante e mi riallaccio al caso di Piero De Tassis che citava prima i vent'anni di Pulp Fiction nel 94 io avevo ho avuto l'onore di lavorare con Indro Montanelli lo dico per i più la voce Indro Montanelli nel 94 litigò con Berlusconi Montanelli dirigeva il giornale quando Berlusconi sceglie di entrare in politica Montanelli litiga e se ne va e fonda la voce fonda la voce e posso raccontare anche io questo aneddoto che è molto fonda la voce e un giorno suona il mio cellulare sono Indro Montanelli io abbiamo un amico che si chiama Steve Della Casa che è solito fare scherzi telefonici e imitare le voci e una settimana prima Steve Della Casa mi aveva telefonato dicendo sono Tinto Brass vorrei parlare col professor Canò e io ci ho creduto e quindi mi chiama Indro Montanelli che per me era un mito insomma e sono Indro Montanelli e io gli ho risposto su apro le virgolette vaffanculo Steve e gli ho riattaccato invece era Indro Montanelli veramente come dire uno si gioca dopodiché mi ha richiamato e lui stava fondando la voce e mi ha proposto di fare il critico della voce e io gli ho detto andai nella nuova redazione del giornale e gli dissi sono onorato della sua proposta ma in tutta onestà devo anche dirle che la mia visione del mondo non coincide proprio con la sua io ai tempi ero militavo nella sinistra e Montanelli mi ha guardato e mi ha detto lo so bene giovanotto ma il modo in cui lei scrive argomenta il suo pensiero mi piace molto per cui se lei farà il suo lavoro con onestà e senza faziosità sarò lieto che lei diventi il critico della voce e io ho fatto il critico della voce Montanelli maestro di giornalismo io ho fatto due perché poi la voce ha chiuso durante il 94 il 95 ha chiuso perché era in viso a tutti era in viso alla destra perché Montanelli era il traditore che aveva lasciato Berlusconi ed era in viso alla sinistra che non capiva che in quel momento Montanelli era un punto di rottura fondamentale nel riassetto dei sistemi politici di questo paese e quindi ci fu una convergenza per far chiudere la voce io ho fatto per la voce due festival di Cannes e un festival di Venezia e Montanelli conservo ancora gelosamente non c'erano le mail non usava gli sms ma andava i telegrammi e io tutte le mattine mi alzavo andavo alla reception dell'albergo e trovavo telegrammi a volte bravissimo c'era uno che ha scritto coglione ecco mi hai scritto poi te lo dico oppure a volte i telegrammi di due pagine in cui entrava nel merito bellissimo l'attacco quell'aggettivo potevi risparmiartelo la chiusa poteva essere migliore un vero maestro questo è un direttore bene e allora arrivo a Pulp Fiction e ti dico perché poi allora passa Pulp Fiction sugli schermi di Cannes io chiamo la redazione parlo col capo redattore della pagina spettacoli e racconto e gli dico io ho visto un film che secondo me è straordinario e gli dico tutto quello che mi aveva colpito in Pulp Fiction dieci minuti dopo mi chiama Montanelli mi racconti giovanotto e io gli racconto quello che Pulp Fiction mi aveva fatto pensare del cinema e di quel film Montanelli mi dice bene lei domani è in prima e riattacca io scrivo il mio pezzo il giorno dopo la voce esce quel giorno di maggio del 94 non era successo nulla Berlusconi aveva detto alcune cose Occhetto ne aveva dette altre ma in influente non era successo nulla sul piano internazionale di politica est la voce è uscita con una foto gigantesca di Uma Thurman di John Travolta nella relazione del ballo e il mio editoriale sul film punto Montanelli aveva capito che la notizia di quel giorno era l'apparizione nell'immaginario collettivo di un film che lo diceva prima Piera ha cambiato il cinema ha cambiato la cinefilia ma ve lo vedete oggi il Corriere della Sera o Repubblica che escono con una pagina ma non lo capiscono neppure con una pagina Montanelli aveva capito che quello era e io conservo quella prima pagina della voce come una reddita straordinaria se posso dire una cosa però io non ho non ho lavorato con Montanelli ho lavorato però ho lavorato con un grandissimo del giornalismo popolare che è Gigi Vesigna che ha fatto Sorrisi e Canzoni l'ha creato l'ha portato successo eccetera e ha creato Ciac questi erano direttori a cui che stavano a destra a sinistra al centro non ha importanza a cui non importava nulla di quello perché insomma anch'io come sai non è che ho mai votato da quella parte e stavo alla Silvio Velosco in editora all'epoca erano direttori che intuivano la stessa intuizione lui lebbe io quando ho visto la mia fortuna diciamo per dire aneddoti perché poi sono quelli la mia fortuna fu che io vedi ero giovane il film di Ridley Scott con le due ragazze dai sei tell me Luis siamo messi bene siamo young generation oggi no io due fortuna avuto quello vedi a un certo punto io scrivo il pezzo su questo e esce il pezzo e lui legge il giornale dopo vede il pezzo e vede che io pubblico avevo pubblicato la copertina di Time con loro due mi chiama io ero ancora praticante quindi stavo sotto lui c'aveva il semaforo e davanti alla porta cioè verde se potevi passare rosso se era meglio non disturbare quindi erano questo tipo di direttori e mi fa chiamare la segretaria e dice il direttore ha visto che lei ha pubblicato la copertina di Time dico sì dice il direttore chiede se lei ha questa copertina dico sì me la sono comprata è mia ce l'ho a casa allora dice prenda un taxi vado subito a prenderla paghiamo noi ma io ero praticante quindi ero appena arrivata non capivo perché cosa era successo che lui aveva addocchiato questo film lui Vesignia aveva addocchiato questo film come fenomeno tutti i suoi capi redattori li avevano detto lui aveva detto secondo me Time fa una copertina secondo me l'ho vista tutti i suoi capi redattori avevano negato l'esistenza di una copertina che nel frattempo io avevo comprato per conto mio pubblicata sul giornale lui l'ha vista dopo da quel momento io non ho mai più smesso di lavorare e la stessa intuizione l'ebbe con Basic Instinct quando io lo chiamai da Khan dicendo guarda Gigi che c'è un film secondo me che fa fenomeno perché Basic Instinct non è pal fiction però feci un rumore pazzesco erano direttori e lui mi ha detto subito se pensi così raccontamelo facendo la copertina era la stessa cosa erano direttori che avevano l'intuizione Gianni questa è la verità l'intuizione della notizia e sapevano probabilmente scegliere i collaboratori c'era più selezione anche era più facile probabilmente però erano direttori che vivevano per il giornale non ancora per raccogliere pubblicità devo dire che quando vivi solo per raccogliere pubblicità l'intuizione comincia a vacillare perché hai un altro e oggi siamo in un periodo in un periodo molto complesso anche per fare questo mestiere io però volevo finire di rispondere alla domanda di prima nel senso che la mia posizione la mia opinione personale quindi discutibile come tutti è che la battaglia contro l'analfabetismo filmico che è la battaglia che io sto conducendo negli ultimi dieci anni della mia vita da dieci anni a questa parte che è anche la battaglia noi siamo analfabeti dal punto di vista filmico siamo analfabeti economici e siamo analfabeti mediatici cioè le tre come discipline fondamentali per capire qualcosa secondo me del mondo in cui viviamo i media e i new media il cinema e la storia del cinema e l'economia sono le discipline non studiate nella nostra scuola è un caso? secondo me no ma questo è un caso ma ci ritorniamo nel pomeriggio la battaglia contro l'analfabetismo filmico non è in contraddizione e non va contro il successo di Checco Zalone io sono un grande stimatore di Checco Zalone e credo che quando un cineasta un attore un regista un generale annunziante con un film riescono a produrre piacere in quanti milioni di persone hanno visto calcolando poi insomma 54 milioni di euro producono 54 milioni di euro vuol dire che milioni di persone hanno tratto piacere dalla visione di quella cosa e quando qualcosa dà piacere io non mi permetto di giudicare ognuno come dire la vita è già talmente complicata è spesso triste che ogni cosa che ci dà piacere io trovo sia benvenuta e trovo che un film che fa 55 milioni di incasso se avessimo un sistema industriale sano sarebbe una non una boccata d'ossigeno sarebbe una pieno di benzina per dare energia movimento a tutto il sistema questo vorrebbe dire però prendere parte di quei profitti reinvestirli in documentari in opere sperimentali come faceva il cinema italiano negli anni in cui era il più grande del mondo vi faccio un solo esempio il 1950 anni fa esatto nel 1963 il cinema italiano vince tutto quello che si poteva vincere 50 anni fa esatto vinciamo Cannes con il gattopardo di Bucchino Visconti vinciamo Venezia con le mani sulla città di Francesco Rosi vinciamo l'Oscar con otto e mezzo di Fellini vinciamo Berlino con il diavolo di Polidoro vinciamo la miglior attrice a Cannes con la protagonista dell'Ape Regina di Ferreri e potrei continuare non è più successo in quegli anni lì non è che il gattopardo non incassava ha fatto fallire la casa però c'erano le commedie c'era la commedia italiana c'era Totò c'era il sorpasso che incassavano e un sistema industriale sano utilizzava gli incassi di un'industria che funzionava per diversificare poi la produzione e quindi per produrre Antonioni per produrre adesso quello che secondo me manca il problema non è che Cozzalone che ben venga il problema è che poi Piero mi direi se sei d'accordo un'industria sana dovrebbe usare parte di quelle risorse primo per fortificare la battaglia contro l'analfabetismo filmico secondo per dare come dire ossigeno a produzioni e a circuiti perché secondo me poi il problema è quello di finanziare non tanto la produzione quanto la distribuzione e la possibilità di rendere visibili i film o la costruzione di un marketing che faccia venire voglia di andare al cinema perché questo poi è il problema io fossi io un'industria metterei un sacco di risorse sul marketing sulla comunicazione per fare in modo che andare al cinema e vedere film torni ad essere figo in questo paese perché non lo è cool come lo è come lo è per i francesi sono un po' rozzo in questo una volta tanto che non devo parlare da professore lascia questo perché ho visto che c'è una spegnola mostra sul cool a New York questo è il problema non so se sei d'accordo io sono d'accordo assolutamente sulla non demonizzazione di Checo Zalone che peraltro a me in sé piace da morire mi piaceva se posso dire da pazzi soprattutto fuori dal cinema poi l'ho sempre adorato e se un film incassa così tanto sono pugliesi che facciamo il cinema no 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 ma perché c'è una c'è una cosa distingo alcune cose distingo il in questo caso mi funziona sia Checo Zalone che l'incasso in altri casi accetto volentieri che l'incasso faccia del bene al cinema però mi permetto di criticare il contenuto come nel caso dei soliti idioti cioè sono cose diverse però secondo me se noi facciamo un duello sui soliti idioti non è quello che mi interessa nessuno no no guarda poi sono diventata molto amica dei due soliti idioti in sé alle spalle del produttore ci iscriviamo capito quindi no no io non amo quello lì ma questa è una legittima cosa penso che quello che manca è assolutamente la diversificazione è questo il grave danno cioè non è possibile che ogni volta facciamo questo ragionamento ma meno che Cozzalone più cinematone no no va benissimo tanto che Cozzalone e tanto altro cinema il problema fondamentale secondo me è quello della distribuzione io vengo adesso da Reggio Calabria dove in un tour da Matta dove abbiamo presentato in una serata che era legata a tutta Panorama d'Italia abbiamo presentato Il Sud e Niente di Fabio Mollo c'era Fabio Mollo c'era l'attrice eccetera naturalmente si giocava in casa perché regina ora questo film comunque è secondo me un esordio uno dei migliori esordi può essere d'accordo o meno però è sicuramente importante è stato prodotto da due francesi naturalmente cioè da uno che ha studiato a Londra Los Angeles e poi ha voluto tornare a girare a Reggio Calabria e ha ambientato lì la storia una storia molto moderna molto europea se vogliamo è stato distribuito nel silenzio generale è andato a Toronto quindi è un film noi abbiamo un piccolo film italiano grande esordio acclamato a Toronto di uno di Reggio di 34 anni che ha dovuto trovare due francesi per produrlo pur volendo girare lì con Vinicio Marchioni tra l'altro una storia assolutamente che penso ti piacerebbe molto e è stato è andato a Toronto è andato poi a Roma è andato a Torino a Berlino l'attrice è stata nominata a shooting star dell'anno ti ricordi che sei uscito? ti dico io quando è uscito è uscito a dicembre non ti saprei neanche dire chi l'ha distribuito esattamente in questo momento ora è questo l'allucinato Pallauro film meraviglioso il film Medeas di Pallauro che è stato lodato da Scorsese ha vinto premio ovunque a Maracchese è venuto a Venezia non è stato distribuito in Italia non se lo fila nessuno e lui vive a Los Angeles e lui vive a Los Angeles quindi abbiamo tra l'altro una mini fuga di cervelli anche noi e vi assicuro che il caso per esempio questo di Pallauro che tra l'altro è di Trento quindi per questo conosco bene la sua cosa però anche il caso ieri c'era la sala così quindi c'era naturalmente era l'entusiasmo anche di Reggio Calabria su un film che al suo centro mette questa frase il sud è niente niente succede quindi presentato in Calabria presentato ora è questo che è abnorme no? che poi lui che è Gianni Canova non si ricorda io ti giuro perché l'ho dovuto fate che faccio un giornale in cui purtroppo devo saperle tutte ma non ti ricordi e noi non ci ricordiamo chi l'ha distribuito e questo è stato acclamato a Toronto cioè al festival di Toronto quindi noi stiamo facendo un percorso secondo me vabbè sentite qua non funziona grazie per il wifi ma io vado con G e lo tolgo infatti è il wifi dell'università cos'è? university wifi eppure c'è scritto come si chiama il film? il sud è niente ma adesso tolgo non so se ci siamo spiegati è bello hai visto in comune? meglio in due dai noi abbiamo ancora 15 minuti avevamo ricevuto due domande da twitter che forse potrebbero anche rappresentare una piccola chiusura vedo che hai tweetato il mio mini fuga di cervelli si io ho tweetato tutto quindi città luce è distribuito quindi io a questo punto le rivolgerei a entrambi i docenti cioè Viviana Minervini chiede c'è un film che potrebbe segnare la vita professionale di un giornalista? così molto generica c'è un film che potrebbe segnare la vita professionale di un giornalista magari qual è il film che ha segnato la vostra vita professionale? mazza ma in che senso che ha determinati questo è il bello di twitter che 140 battute dobbiamo interpretare per quanto mi riguarda ci sono 4 film che hanno segnato la mia vita per cui se non li avessi visti credo che non sarei quello che sono ma sono film che ho amato in modo talmente profondo viscerale ossessivo che ho visto che sono quasi li metto tra i grandi amori della mia vita e gli amori sono miei e non li metto in pubblico se adesso sai rimanere all'altezza di questa è come quando è come venire dopo Totò però però no io io penso che il film che segna la mia vita professionale siano tutti i film che io amo perché non ci può essere distinzione però forse voleva dire un film che quello che hai scritto ti ha particolarmente portato fortuna ti ha purtroppo dovevi dire il Titanic ma eh beh sì ma è vero mi devo dire che fosse i pugni in tasca a un certo punto prima della rivoluzione i pugni in tasca molto più tardi rispetto alla loro uscita però sicuramente sono due film che hanno determinato delle scelte e anche degli incontri e poi indubbiamente sto parlando di cinema italiano la messa è finita questo sicuramente però il mio fine del cuore è la fiamma del peccato Billy Wilder quindi Barbara Stanwyck è la mia attrice di sempre di domani di ieri e e di tutto eh vieni qua eh ma non si sente dilla a me se vuoi qual è la la riporto io allora una domanda e una direzione di la domanda è questa tornando a quanto a la chi è ce lo dica chi è ecco insieme a Vito Valieri e a Vito Valieri ha una decisione a per in questo momento è attenzione però la comunicazione senza parlare di loro è difficile fare comunicazione molto cinematografico che non siamo dall'inizio ora se lei ha parlato di una rivoluzione sessuale anche tanto della comunicazione non 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 come dobbiamo comportarci se sintetizzo solo per chi non avesse sentito è una doppia domanda la prima parte è quella come si fa oggi a realizzare un mensile non necessariamente come Chuck non necessariamente con un brand così forte mantenendo sempre un grado di sorprese di attenzione per il mercato cinematografico e come mai determinati autori che per esempio partono dalla Puglia come Pippo Mezzapesa non riescono magari a trovare uno spazio sui media nazionali di altrettanta portata vuoi sapere come si fa come come fa Pippo Mezzapesa ciao Piera ecco il link di Pinocciolo vero yes I can che è scienziale 15 con micro cinema l'ufficio stampa è punto e virgola ma te preferisco mandarlo così si fa anche un piccolo marketing questo qua per esempio è un messaggio di Pippo con cui ho un ottimo rapporto che conosco e è chiaro che lui è molto bravo l'avremmo preso in considerazione lo stesso perché comunque gli uffici stampa te li mandano io so che è Pippo Mezzapesa so cos'è Pinocciolo vero ho visto tutto eccetera però c'è anche un mini marketing questo rimane qua non si sa perché rompe il messaggio però c'è anche un mini marketing che il regista stesso si può fare nel senso che ti fa vedere il film si fa conoscere in questo modo le strade sono molte non è che però ce ne sono non è che per un film di questo tipo puoi affidarti davvero alla non credo che ci sia un investimento di lancio tale che ci si possa permettere di uscire in chissà quali coppie in chissà quali sale e con altrettanta stampa quindi in questo caso per esempio c'è proprio quello che vi dicevo prima indirizzi numeri di telefono funziona perché tanti film io ho compreso il suda e niente che lui per esempio a lui è sfuggito perché poi fa ancora un altro mestiero oltre cose a me arrivano così perché il regista si intigna e ti dice e te lo faccio vedere purtroppo è un sistema molto artigianale e italiano adesso non so se sto rispondendo a niente credo però mi piaceva dirvi che Pipo Mezzapesa ce l'abbiamo nel mirino tranquilli non sapevo bitontino il bitontino c'è e il va fatto va fatto in questo modo cioè per questo io credo che sia una questione anche di passione perché io se mi riconosco una cosa è quella che anche le cose più piccole cerco di Aveli rompo le palle come si dice Montanelli avrebbe detto peggio ma rompo fin quando è la curiosità la caratteristica secondo me fondante per uno che fa questo lavoro io voglio vedere tutto poi magari non mi piace mi piace cosa ci metto un po' a vederlo perché me ne arrivano a casa però cerco di vedere tutto quindi hanno capito scrivono ma succederà anche a te te li mandano ti scrivono ti almeno perché ormai io faccio non faccio più un giornale che si occupa di film però fai Sky fai tutte queste robe sì però quando facevo due allora era così anche a me arrivavano adesso io faccio un giornale ne parlerò nel pomeriggio che è un giornale di cinema dove non si parla di film ma di Mutande vedo no 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 e gli unici film di cui parliamo in questa rivista so per esempio in questo nell'ultimo numero che trovate là c'è un pezzo su Ice Cream che è un corto sul bullismo fatto da due giovani pugliesi che adesso sta diventando un lungometraggio Hollywood quindi non parliamo di Sorrentino che non ne ha bisogno cerchiamo di segnalare le eccellenze italiane che anche questi vanno al libro vedi che questa cosa della fuga dell'uscita è un dato su cui io credo che il sistema dei media in questo paese abbia delle grosse responsabilità sul declino culturale complessivo di questo paese perché l'alibi dell'inseguire comunque sempre l'audience il numero di copie che poi scendono e calano comunque non giustifica la desertificazione culturale che giornali e televisioni hanno praticato negli ultimi 20 anni non è possibile io vivo a Milano a Milano ma anche in Puglia mi diceva la mia amica Antonella Greta che è la stessa cosa ci sono tantissimi factory ci sono tantissimi gruppi di giovani creativi a Milano alcuni giovani miei amici sono quelli che hanno fatto gli effetti speciali di Fight Club per esempio lo sapete gli effetti speciali di Fight Club non li hanno fatti a olio li hanno fatti dei ragazzi che allora avevano 20 anni e che vivono in Italia che nessuno conosce mentre queste sono le eccellenze che un paese dovrebbe mettere in vetrina di cui dovremmo essere orgogliosi no si parla sempre e soltanto del gossip l'amico degli amici e quindi non si dà spazio alla creatività che c'è in questo la mia generazione ha delle responsabilità la mia e quella di Piero insomma ha delle responsabilità grossissime per cui io spero che voi sarete capaci di dare una svolta in questo senso e di ridistribuire i pesi e i valori e le cose che vanno comunicate e quelle che possono anche essere messe un po' un po' in sordina mi sorprendono sempre queste cose adesso perché abbiamo preso questa io ero allo Sanchez per l'Oscar a un certo punto mi è venuto vicino un signore molto simpatico e mi ha detto ciao sono Carlo Poggioli volevo scriverti eccetera io ho fatto finta come si fa in questi casi perché ho capito che dovevo conoscerlo perché certe volte proprio non sai Carlo Poggioli scopro poi tornando e andando su Google che lui era lì per la festa di Sorrentino ma per esempio lo sapevate tu lo sapevi forse sì tu sì forse Carlo Poggioli ha fatto i costumi vado nell'ordine di Divergent che esce adesso De Zero Siorem di Terry Gilliam la leggenda dei cacciatori vampiri 3D vabbè lezione 21 ritorno a Cold Mountain di Anthony Minghe allora questo è un italiano di cui noi non abbiamo nozione c'è un sito meraviglioso su cui adesso io voglio fare una cosa e sto povera l'altro giorno lo chiamo no mi fa ridere età avrà a occhio 40 qualcosa no questo vive così lo chiamo perché dico guarda Carlo mi scrive dice mi piacerebbe che allora io lo chiamo dico guarda Carlo mi piacerebbe per il prossimo numero fare una cosa e lui mi dice guarda mi spiace adesso veramente sono molto impegnato sul set facciamolo un'altra volta questa cosa io ci tengo tanto però la facciamo con calma quando io mi posso impegnare perché adesso sono sul set e lavoro molto cioè io non ho mai visto uno che risponde così in genere il giorno dopo sono lì con gli quindi c'è della gente molto seria in giro per il mondo io se tu vedi il sito e vedete la cosa che si coltiva anche il proprio sito eccetera che lavori sono italiani e li scoprite nelle major che fanno molti negli effetti speciali ma anche nelle proprio nelle alla dream work per esempio ce n'erano che lavoravano eccetera quindi è una siamo noi che siamo veramente così poi volevo dirvi come fa un mensile questo tu volevi sapere questo intanto io vi voglio dire che il mensile non fa una cosa che Canova ha avuto il coraggio di fare a me fin da piccola mi hanno detto di omettere mai il punto di domanda in copertina e lui fa solo punti di domanda tutte le sue copertine sono delle domande è una cosa che io ho desiderato fare per tutta la vita e sono stata bloccata cos'è sta cosa meravigliosa ma vada non ho visto questo eh no non ho ancora visto questo non mi è ancora arrivato a me è la nuova versione ripubblichiamo dei dei va bene ma questo ne parliamo ma beh questo dopo adesso è il tempo di ciocca no comunque lui fa una cosa che da piccola mi insegnavano da picco a tutti i miei maesi non mettere mai il punto di domanda in copertina cioè la copertina non deve essere interrogativa non deve essere dubitativa prima della rete prima della adesso esatto ed è per tutta la vita è stata frustrata perché a me mi viene sempre un punto di domanda che infatti adesso ho cominciato a mettere perché si può perché prima eravamo noi prima eravamo i produttori oggi i produttori gli editori sono la gente quindi non c'entra fare come fai qual era la domanda perché temo di non sapere la risposta sul mensile qual era la domanda come si fa fa fatica no mensile è destinato alla qualità allora questo volevo dirti in realtà l'unica cosa che oggi può tenere un mensile è la qualità perché l'informazione l'attualità la notizia ce l'hai ovunque un mensile di che cosa di cinema di perché vieni qua allora vediamo se così mi sentite ok con il diffondersi di queste testate web e abitanto ora c'è anche una televisione il mensile con cui collaboro ha registrato non solo un calo delle vendite perché il calo delle vendite è relativo ma addirittura un disinteresse quindi abbiamo dovuto reinventarci è cambiato il formato ma soprattutto è cambiato il contenuto nel senso che adesso non ci occupiamo più di dare la notizia perché alla notizia ci arrivano tutti immediatamente tramite internet ma cerchiamo di fare approfondimento ma anche nonostante la qualità io posso dire che la qualità sia migliorata in realtà non abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo quanto costa il tuo mensile scusa 2 euro 2 euro si chiama il mensile primo piano si occupa di attualità e locale quindi bitontina con uno sguardo anche a quelle che possono essere delle tematiche nazionali quanto vende? non glielo so dire e questo è grave non glielo so dire perché non questo lo devi sapere direttore tu cosa sei direttore? non ci viene comunicata questa cosa beh me però non puoi fare un mensile senza sapere quanto vende senza avere un rapporto dai perché i redattori i collaboratori di Ciac sanno veramente quanto veramente il dato vero il dato vero naturalmente io lo so assolutamente non c'è dubbio ma anche un collaboratore di Ciac basta che prenda prima comunicazione dove tutti vanno noi siamo certificati purtroppo e noi non sfuggiamo non c'è dubbio non c'è dubbio perché per esempio gli altri politici ne sono l'ultima cosa e questo lo fa ma ti posso dire che il nostro lo ricevono gratuitamente il nostro più grande nemico sono le rassegne stampa lo sapete cioè io che sono la prima che le usa però le rassegne stampa dove ormai in pdf c'hai tutti gli articoli tutti i giornali tutto quanto quindi lo trovi secondo me devi io non te lo so dare un consiglio perché ovviamente non sono debitonto non vedo il giornale non ce l'ho in mano quindi non capisco cosa può essere la cosa sicuramente la copertina oggi fa ancora una certa differenza cioè la capacità che hai di sparare sulla copertina un problema che per quel territorio è probabilmente o provocatorio o importante o determinante ecco posso dirle con certezza che su dieci numeri intorno ai dieci undici che escono durante l'anno la copertina più venduta è stata quella che in prima pagina aveva il volto di Bianca Guacero quella invece prettamente politica sul rinnovo dell'amministrazione forse non ha ricevuto lui stesso tu devi mettere Bianca Guacero con l'amministra che parla della ecco perché si parlava prima di una rivoluzione culturale che a questo punto non so da dove deve partire per noi operatori della comunicazione perché se puntiamo sulla qualità sull'approfondimento comunque non riusciamo a ottenere gli stessi risultati che invece è un'operazione comunque ragazzi attenzione con la carta non riusciamo più adesso io il problema è che l'edicola non c'è più cioè questo io lo dico con tutta la passione e l'infelicità possibile però l'edicola è un luogo evitato da gente che ha sotto io giro il mondo con trentenni mi guardano come una pazza che vogliono fare giornalisti ma non fanno un giornale neanche se glielo paghi tu io entravo in edicola e loro rimanevano fuori tipo sarà infetta non so la carta allora il problema è questo sicuramente bisogna andare ad un'integrazione dei due sistemi non sono e non sarò perché sarei stupida qui ottimista sul futuro del giornale di carta credo che bisogna lavorare molto e lo faremo nei prossimi tempi anche noi sull'integrazione da noi oggi la grande forza ve lo posso dire è Facebook che ha quasi trentamila lettori e ci ritorna addirittura sul giornale oggi a me non so a me mi telefonano a me mi telefonano a me telefonano perché metta la recensione su Twitter facci recensisci per favore il film su Twitter cioè il mondo è questa cosa qua mi chiedono di Twitter mi chiedono moltissimo Luffington Post che io faccio relativamente perché per ragioni di tempo perché non causa allora un giornale questo ha un senso perché l'unico senso che ancora è perché ti anticipa le tendenze quindi a chi parla questo questo è un giornale che parla al lettore all'industria al distributore distributore che sa che cosa che velocemente sa che noi abbiamo già scelto e più o meno senza sbagliare però quello cioè c'è una fiducia il problema è che nei confronti di questo brand c'è ancora una fiducia diciamo un residuo di fiducia che fa sì che tu immagini se sbaglio dimmi perché sto dicendo che tu immagini che quello che trovi qua è comunque diciamo all'85% dei casi indovinato cioè ti dirà qual è il film che andrà bene qual è il film che va visto magari più in piccolo perché lo mettiamo con il colpo di fulmine qual è il caso del momento qual è il personaggio che sta salendo più ti dà una serie di informazioni del passato eccetera ma insomma più che altro allora questo è tu devi creare questo rapporto qua di fiducia che sulla carta rimane perché la carta che cos'ha rispetto al web la permanenza semplicemente che quello che tu leggi qua rimane quello che tu leggi sul web si scarica velocemente come le pagine del web esattamente così qui ha una permanenza che naturalmente arrivare con una foto su Chuck arrivare con un articolo su Chuck ha ancora un valore perché l'attore il regista eccetera sanno che hanno una specie di come dire di glorificazione di quel momento sul giornale attenzione dopodiché cosa succede che tu fai tutto questo bel lavoro Edoardo Leo adesso dico Edoardo Leo non è il suo caso ma insomma chiunque ti inseguono con l'ufficio stampa eccetera per avere questo poi la mattina in cui esce il giornale l'ufficio stampa fa il pdf di questo articolo e lo spedisce per pdf a chiunque cioè non è che spende 4 euro e 50 e invita gli altri a spenderli ne spende una volta fa il pdf secondo me forse lo trova e se lo fa dare e lo spedisce a tutti quindi è così la cosa però naturalmente diciamo che ancora all'effetto di uno status symbol arrivarci non è più di uno status symbol è il riconoscimento di una reputazione costruita sulla competenza esatto nel senso che la differenza che c'è fra una recensione pubblicata su Ciac o su un giornale dove c'è un direttore che sceglie cosa pubblicare e una cosa pubblicata sulla rete è che la cosa pubblicata sulla rete può venire da persone che non hanno nessuna competenza rispetto a quello su cui scrivono laddove invece chi scrive qui o chi scrive qui ha una competenza certificata voi potrete è poco democratico sì è poco democratico perché adesso dico una cosa provocatoria poi ci prendiamo solo allora voi andreste a farvi diagnosticare una malattia da un medico che non ha fatto neanche un esame all'università e che non ha nessuna competenza riconosciuta rispetto al problema che avete io non ci andrei allora che differenza c'è fra me e una persona che un ragazzo di 20 anni che scrive la sua recensione sulla rete può essere molto più bravo di me spesso lo è l'unica differenza è che io da 30 anni vivo di pane cinema credo di aver visto almeno 40.000 film e di aver dedicato la mia vita a studiare questa cosa per cui credo di avere una competenza costruita sul campo per cui non dico che un mio giudizio vale di più è un giudizio competente laddove non è detto che un giudizio sulla rete sia competente io non mi sognerei mai di dare un giudizio sulla musica dodecafonica di cui non so nulla e di stroncarla dicendo come mi capita è noiosa è noioso perché non so non ho gli strumenti per giudicare la musica dodecafonica mentre sulla rete trovo tanti è noioso ma in base a cosa lo dici me lo argomenti no perché una cosa uscita sulla carta per il sistema vale di più perché c'è un riconoscimento reputazionale che da chi è competente ti riconosce un valore e i professionisti del cinema hanno bisogno di questo valore che ne dicano no? la critica non serve hanno bisogno perché il cinema non è soltanto i film il cinema è anche l'insieme dei discorsi sociali che vengono prodotti su un film su un autore su un attore e i discorsi sociali sono quelli che costruiscono la reputazione e la reputazione è importante tanto quanto gli incassi motivo per cui per un po' ancora è l'autorevolezza si chiama so che è un discorso molto provocatorio ma se volete ci torniamo con chi ma non tanto provocatorio è così cioè la rete quando io dico che la rete passa e si scarica come le pagine e sto cercando una cosa è questo cioè io so benissimo che il valore senza girarci tanto intorno che il valore ancora del brand Ciac è il fatto che viene riconosciuta sicuramente l'autorevolezza del direttore così come l'autorevolezza di tutta una serie di collaboratori così come voglio dire nel tuo caso quindi questi ancora sono i valori a cui l'autorevolezza come dire è una cosa che costruisci con il tempo però ecco non è che ci deve lavorare giorno per giorno quindi non è che nasce così e però è un valore riconosciuto dai però anche questo è un problema specifico di questo paese e torno di nuovo del nostro analfabetismo perché qual è il problema in Italia rispetto a un paese come la Francia o a un paese come l'Inghilterra è che da noi le straordinarie potenzialità aperte dalla rete quindi l'accesso e la possibilità per chiunque di dire la propria opinione non è stata preceduta da quel momento fondamentale nell'evoluzione della modernità occidentale che invece è avvenuto in Francia in Inghilterra eccetera che è l'avvento della democrazia culturale da noi la democrazia culturale e quindi un insieme di saperi diffusi e posseduti capillarmente dalla popolazione non è mai arrivata e quindi in un paese che hanno conosciuto la democrazia culturale la rete è straordinaria perché dà alla democrazia culturale la possibilità di esprimersi in paesi che questa democrazia culturale non l'hanno conosciuta la rete illude gli incompetenti di essere competenti che secondo me è una delle menzogne più gravi per perpetuare il dominio di coloro che detengono i mezzi di produzione dell'informazione su coloro che non li detengono ma si illudono di detenerli perché possono cliccare questo è uno dei grandi inganni secondo me della mancata e distorta modernità italiana io uno delle vorrei citare una cosa che non c'entra niente ma siccome abbiamo parlato di Checco Zalone eccetera invece dove io trovo se riesco a fermarti perché volevo e tu hai parlato a un certo punto di quelli che cioè la democrazia come illusione eccetera io questo l'ho twittato creandomi sempre altri amici perché è una delle mie delle sale di The Space sì no 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 io arrivo a un certo punto al sorrento al giornale professionali e come benvenuto per i critici c'era questo era succedeva dopo il successo di Zalone è The Space naturalmente qua manca ringrazia Tao 2 Medusa Film Gennaro Luntiante e Checco Zalone attenzione per aver dimostrato ancora una volta che il cinema italiano è vivo e che non sono i critici ma gli spettatori a decretare il successo di un film grazie allora io l'ho twittato con benvenuti saluto di benvenuto questa è un'altra delle grandi idiozie no? cioè questa è l'altra grande idiozia cosa c'entrano? cioè è possibile fare un manifesto di questo tipo? hai fatto 54 milioni stai zitti parlo di The Space in questo caso The Space però sì contento e non perché sottolineare tra l'altro facendo veramente una cosa storicamente inesatta perché tutti i critici hanno parlato bene di Zalone di questo film di questo film ho capito ma qua sta parlando di quello per dire un altro aneddoto e poi chiudiamo perché sì no ma che ora sono io devo tornare a Milano anche a un certo punto sai che io mi ha fatto una certa sei mai stata querelata da qualcuno per cose che hai scritto? io mai salvo adesso io sono stato ho scritto anche delle stroncature feroci di cui in alcuni casi mi vergogno ma qualche regista mi ha tolto il saluto non siamo mai arrivati alle querele e sono stato querelato recentemente da The Space non so se qui c'è ci sono delle sale di Space casa massima per una cosa che ho scritto sul penultimo numero di otto e mezzo si parlava del cinema in sala e io banalmente ho raccontato la mia esperienza di spettatore dicendo che io ho una figlia di nove anni e un giorno l'ho portata a vedere un film in una multisala di Space e ho chiesto alla cassiera mi dice esattamente l'orario in cui il film inizia perché non volevo che mia figlia vedesse pubblicità e pubblicità di film inadatti secondo me a un bambino a una bambina poi uno può se è un vecchio moralista può essere ma so io ok compro il biglietto del film e voglio vedere il film e non la pubblicità prima mi dicono un orario e invece io entro in quell'orario e ci siamo beccati venti minuti di pubblicità con scene di violenza con scene di sangue che io non volevo che mia figlia vedesse prima cosa durante l'intervallo tutti i bambini vanno a prendere i popcorn e mia figlia mi chiede papà mi compri i popcorn c'erano dei giganteschi barattoli mi avvicino mi dà un bicchierino di popcorn di quelli no no noi vendiamo solo questi costano 5 euro va bene mi dà quello lì piccolino le pago 5 euro ma io quella cosa lì per questione di igienismo alimentare mia figlia no 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 noi possiamo vendere solo i bicchieri ho scritto questo e ti hanno perrelato fantastico per diffamazione ma sono orgoglioso perché sto raccogliendo un sacco di testimonianze che funzionano così e non hanno rispetto perché se tu tratti in questo modo lo spettatore non puoi pretendere che uno esca di casa vada al cinema per essere trattato in questo modo e questo è uno dei problemi anche qui di inciviltà e di in cultura io compro un biglietto voglio vedere quello non mi puoi dare o me lo dividire che vedrò delle altre cose non mi puoi aver reintrodotto l'intervallo fra un primo e un secondo tempo no quella della reintroduzione dell'intervallo è una cosa che ho scoperto recentemente è drammatica con sgomento hanno reintrodotto l'intervallo ma questo anche sono andato sempre con mia figlia l'altro giorno a vedere ed è bellissimo andare al cinema con i bambini sono andato a vedere un film che forse da solo non avrei visto ed era la storia di una ladra di bimbi di libri di libri e a metà una ladra di bimbi e a metà anche lì l'interruzione sul più bello dopodiché è bellissimo andare con i bambini perché ti fanno delle domande a cui io per esempio all'uscita di questo film mia figlia mi ha chiesto papà ma come li riconoscevano gli ebrei e io mi sono scoperto io per tutta la vita ho studiato ho visto centinaia di film sullo locale come li riconoscevano gli ebrei e non ho saputo rispondere ho dovuto e tuttora non c'è scritto sulla carta di identità che sei ebreo non fa fede il nome di famiglia e i bambini sono straordinari perché ti mettono il dito lì e impongono anche al critico l'assunzione dimostrano al critico la sua ignoranza temo ti sia piaciuto il film che è uno dei film che trovo più brutti non mi importa se mi è piaciuto non mi importa non è quello è un film che mi è servito se non altro per questa domanda comunque un film carina la bambina allora un applauso sia a Piera De Tassis è finita o grazie mille a Piera De Tassis no grazie a voi e niente grazie a voi grazie a tutti quelli di Twitter e poi grazie insomma a te e grazie a Gianni che si è che si è fatto il doppio adesso così sto pomeriggio è un lancio si chiama ti ho fatto un teaser questo era un teaser di Gianni Canova del pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.